benvenuti a questa seconda giornata di incontro sul tema matematica filosofia e pandemia dall'incertezza al pensiero critico ringrazio i due relatori di oggi Antonietta Mira dell'università dell'insubria e dell'università della Svezia italiana e Armando Massarenti giornalista del Sole 24 ore e collaboratore del CNR questa giornata si articola in un ciclo di seminari da loro tenuti sul tema e quindi scorro velocemente per dare un'idea a chi si collega in corsa delle tematiche che verranno trattate pensiero critico e pensiero a critico in tempi di pandemia la scatola degli attrezzi del buon cittadino perché ci sbagliamo così tanto e perché crediamo più alle fake news che alle notizie vere paradossi logici probabilistici e dilemmi morali logica matematica biologia e scienze cognitive al servizio del cittadino le due domande cruciali nel nostro tempo secondo Chomsky la domanda di Orwell perché sappiamo così poco nonostante l'abbondanza di informazione che riceviamo ogni giorno la domanda di Platone perché sappiamo così tanto nonostante riceviamo così poche informazioni nel pomeriggio avremo un ciclo di seminari sulla matematica dalla matematica delle mascherine alla pandemia dei dati come probabilità e statistica aiutano nell'emergenza falsi positivi falsi negativi e false notizie un menù molto ricco ringrazio ancora i due relatori a cui do la parola grazie Daniele per l'organizzazione di questo ciclo di lezioni questa giornata full immersion e grazie Armando allora vorremmo iniziare in una maniera un po' inusuale dal punto di vista della comunicazione della scienza i temi che abbiamo trattato che tratteremo oggi fanno eco a un libro che esce questa settimana che abbiamo scritto con Armando e questo è un video che abbiamo creato partendo dal libro e col video vogliamo parlare ai ragazzi, ai giovani, agli studenti come voi ma anche ai docenti per mostrare un modo di comunicare la scienza in maniera diversa allora partiamo col video e poi do la parola ad Armando radice quadrata di n pi greco curva gaussiana andamento esponenziale i numeri ci scocciano da tutta una vita e con la matematica una brutta partita ma oggi la faccenda sta toccando il fondo qui sembrano la cosa più importante del mondo la tele ci frastorna con un mare di dati e adesso siamo tutti come ipnotizzati con grafici, tabelle, proiezioni, histogrammi la sera nei to show si fanno solo dei drammi e questi dati? ma dove li han trovati? che dati? ma chi li ha mai cercati? che dati? ma chi li ha elaborati? in mezzo a questi numeri siamo tutti scoppiati la malattia dello stress per i dati sta dilagando e siamo tutti infettati ma per fortuna c'è un vaccino speciale ti basta leggere e capire un nuovo libro eccezionale la formula della curva gaussiana la curva detta anche normale perché in media tutto tende a lei a lungo andare ecco quindi un modo un po' diverso di iniziare ma comunque con tanti contenuti scientifici non so se avete colto alla fine la formula della curva gaussiana che leggiamo, che cantiamo in modo che resti poi nella testa delle persone e c'è un accenno al teorema del limite centrale che è uno dei cardini della teoria della probabilità ecco questi sono alcuni dei temi che affronteremo in queste giornate cercheremo di farlo in maniera diciamo un po' diversa partendo dai dati generati dal coronavirus i coronadati come li chiamiamo noi e questi coronadati ci forniscono lo spunto per approfondire tutta una serie di temi scientifici che toccheremo durante questa giornata allora io lascio la parola ad Armando con cui sarete fondamentalmente questa mattina e poi ci ritroviamo nel pomeriggio alle tre e mezza e condurremo il pomeriggio insieme grazie Armando grazie, grazie a te grazie al professor Cassani per l'invito ecco passeremo insomma tre ore questa mattina tre ore nel pomeriggio con Antonietta Mira io non sono un professore di università però insomma ho una formazione da filosofo della scienza non sono neanche un matematico quindi la parte matematica è quella che che lascerò più volentieri alla trattazione della professoressa Mira ci siamo molto divertiti a scrivere questo libro insieme perché abbiamo messo insieme due punti di vista in realtà molto convergenti fin dall'inizio ma che partono da due competenze almeno da una mia totale incompetenza in realtà per la scienza dei dati di cui invece è molto esperta Antonietta Mira e da una mia competenza invece in ambito filosofico come io mi sono formato come filosofo della scienza all'Università di Milano con Ludovico Gemonat che era l'ultimo quando ho iniziato io era il suo ultimo anno di insegnamento e poi con Giulio Giorello che anzi tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che è una delle vittime illustri di questa sciagurata pandemia che ci ha colpito come sapete ci ha lasciato nel giugno scorso ed è stato un grande maestro tra le grandi cose che ho imparato da lui è il fatto intanto il suo grande amore per la libertà il suo grande amore per un pensiero libero e il suo grande amore per la scienza ovviamente perché insegnando filosofia della scienza è stato uno di quelli che devo dire che l'ha insegnata davvero nel solco del maestro Ludovico Gemonat chi ha seguito peraltro l'incontro di ieri avrà notato che dietro le spalle di Fabio Minazzi tra i vari libri che c'erano io guardo sempre i libri che ci sono dietro le persone e c'era appunto l'enciclopedia di Ludovico Gemonat che è ancora un po' di meno la storia del pensiero scientifico e filosofico e appunto Gemonat è stato un grande maestro che ha formato tantissime persone per tantissimo tempo aveva un approccio diciamo marxista-leninista che invece Giorello ha sconfessato completamente quindi è stato maestro di libertà anche diciamo nel tradire il maestro allora una cosa fondamentale dei filosofi del pensiero critico che io insieme ad Antonietta Mira cerco di divulgare già da molto tempo e poi in questo libro lo facciamo in una maniera nuova e originale è proprio la capacità di critica anche nei confronti di chi ci sta spiegando le cose di chi ci insegna le cose ma la capacità critica è una cosa elaborata e complessa noi sapevamo bene che la filosofia secondo ciò che ci ha insegnato Popper nasce proprio da una lui enfatizzava un po' questo aspetto che c'era già secondo lui nei presocratici che il tutto nasce dalla capacità di criticare in maniera efficace i propri maestri ecco Giorello è stato un esempio di questo ha portato avanti un programma di ricerca molto libertario che faceva riferimento non più al marxismo-leninismo tra l'altro ne abbiamo sentito un eco nell'incontro di ieri con Sidi che citava Engels la dialettica della natura di quel tipo di cultura invece quella di Giorello è una cultura più vicina alla nostra pandemia dei dati agli strumenti che noi cerchiamo di mettere nelle mani del lettore in questo libro perché si rifà alla tradizione utilitarista cioè a quel libertarismo che è strettamente legato a Jeremy Bentham a John Stuart Mill che sono anche dei grandi economisti cioè quelli che stanno alla base del concetto appunto di utilità il concetto di utilità poi vedremo se riusciremo un po' a spiegarlo in queste nostre chiacchierate è fondamentale per capire proprio certi modelli delle scelte degli individui ora voi direte cosa c'entra con la scienza dei dati ci arriviamo e capirete capirete per te perché e che cosa c'entra con il covid e con appunto la capacità di leggere i dati cerchiamo di andare con ordine insomma noi questa mattinata abbiamo questa giornata l'abbiamo intitolata filosofia e matematica per tutti entrambe sono due cose diciamo direbbe direbbe De Gaulle direbbe De Gaulle vasto programma cioè nel senso è spiegare due cose che apparentemente sono così complicate così ostiche come la matematica e la filosofia in una stessa giornata per tutti però ci possiamo riuscire almeno a dare qualche elemento perché la filosofia è per tutti innanzitutto anzi sarebbe potremmo addirittura partire dalla matematica la matematica non è per tutti perché è una cosa complicatissima qualunque tipo di scienza non è per tutti per definizione e forse la filosofia lo è un po' di più perché è più legata alle nostre intuizioni di fondo anche quelle se vogliamo quelle sbagliate quelle che ci portano in direzioni sbagliate ma che poi possiamo correggere mano a mano la scienza invece la matematica per questo io non avrei mai potuto scrivere un libro come la pandemia dei dati senza avere qualcuno che davvero fa quel mestiere lì che da sempre ha sviluppato le competenze necessarie per sapere come funziona la matematica soprattutto la matematica legata alla probabilità che a sua volta si lega all'utilitarismo poi vedremo in che modi tutto il lavoro qui ma la filosofia cioè la matematica appunto non illusiamoci qualunque tipo di scienza qualunque tipo di competenza scientifica qualunque tipo di competenza anche in generale richiede ma anche non so musicale se uno dovesse imparare un strumento veramente o imparare la composizione imparare qualche cosa richiede tantissimo tempo ci sono anche dei calcoli che dicono in maniera abbastanza precisa quante ore ci vogliono per imparare una certa professione e tutte le professioni e comunque la scienza in particolare richiede un training lunghissimo quindi come fare a raccontare noi non racconteremo noi non facciamo non vogliamo rendere tutti matematici però vogliamo ci sono degli strumenti di base che servono a tutti dal punto di vista cognitivo peraltro siamo tutti già matematici noi nel libro spieghiamo che siamo anche ci sono vari studiosi oggi vari scienziati cognitivi che ci dicono che noi siamo in grado di fare dei piccoli calcoli intanto vabbè condividiamo il nostro cervello condivide con tanti con gli altri animali compresi anche i gallinacei per esempio c'è un bel libro di Val d'Ortigara che si chiama Cervelli di gallina Cervelli di gallina hanno delle capacità anche abbastanza sorprendenti tra cui anche quelle di fare dei calcoli i calcoli però molto semplici e anche il nostro cervello si orienta ma solo su dei numeri abbastanza piccoli in maniera naturale se non è poi formato e quindi non è tanto quello che fa degli esseri umani di alcuni esseri umani poi dei matematici non sono queste capacità ma sono cose molto più complesse molto più complicate però bisogna fare tesoro di quelle nostre capacità di capire come funzionano e come si possono poi poi sviluppare quindi anche la matematica può essere per tutti un certo tipo di matematica e soprattutto cosa può condividere con la matematica ma io direi anche un certo aspetto di curiosità del pensiero è anche un aspetto abbastanza giocoso allora intanto io vi vorrei illustrare un pochino cos'è per me secondo me la filosofia cosa è stata per me la filosofia nel corso della mia della mia attività quindi in questo dovrò anche insomma parlare un po' di me stesso della mia attività per arrivare poi a quei temi che abbiamo enunciato come titoli di questa nostra mattinata cioè appunto quelle sono le fake news come bisogna attrezzarsi per riuscire ad orientarsi dentro tante notizie tanti dati ma soprattutto dentro tante notizie tante notizie che poi sono spesso appunto come è stato quasi sempre nella mia carriera nel mio pensiero sono delle notizie di carattere di carattere scientifico allora innanzitutto chi sono io qual è la mia professione qual è la mia storia professionale io ho iniziato io stavo mi stavo laureando tranquillamente in filosofia della scienza alla metà degli anni ottanta quando mi è capitato di iniziare con grande piacere per me di iniziare a lavorare in un supplemento culturale importante che è il supplemento culturale del sole 24 ore quindi ho dovuto pormi subito il problema di come si fa a trasmettere delle conoscenze elaborate all'università in abito universitario conoscenze abbastanza sofisticate come quelle di filosofia della scienza storia della scienza ma questa è stata una scelta mia fatta allora con il direttore di allora del giornale con l'idea che ci fosse uno spazio una possibilità di trasmettere la scienza a un pubblico colto in maniera un po' diversa da come si faceva prima da come in fondo adesso è un difetto quello che noi cercavamo di correggere che ancora adesso è abbastanza presente cioè il supplemento della culturale soprattutto a quei tempi ma lo è ancora oggi è ancora oggi così abbastanza tendono a considerare cultura alta cultura tutto tranne che la scienza diciamo la scienza viene vista nella nostra tradizione culturale come qualche cosa che è tra i saperi tecnici diciamo tra i saperi tecnico-scientifici cioè qualcosa che non implica un vero una vera attività del pensiero ieri lo diceva molto bene Minazzi nelle conclusioni quello che dobbiamo recuperare perché sia la scienza che la filosofia sia la matematica lui diceva la matematica la matematica ancora di più in generale rispetto alla scienza in generale nelle nostre scuole vengono insegnate in maniera troppo meccanica e come se non fossero come persino la filosofia che appunto dovrebbe essere l'arte del pensiero come se gli togliessimo gli scarmificassimo gli togliessero proprio l'elemento fondamentale che è quello del pensiero quindi cosa hanno in comune matematica e filosofia a questo il fatto che ci spingono a pensare cosa che stranamente nella nostra scuola invece viene un po' un po' eliminata cosa cosa io invece pensavo che si dovesse fare anche sulla scorta degli insegnamenti di Gemma Nadi di Giorello che che erano i miei maestri in quel momento anche se erano in lotta tra di loro perché c'era stata questa separazione da un lato un libertario miliano un bentamiano utilitarista dall'altro uno che continuava a mantenere la sua posizione marxista leninista però in comune cosa c'era? C'era questo grande amore per la scienza come il vero motore della conoscenza come anche qualcosa di rivoluzionario se vogliamo nella nostra cultura cioè considerare la scienza come cultura era qualche cosa che noi consideravamo veramente importante appunto che poteva davvero modificare un pochino l'assetto generale della nostra cultura in direzione di quell'unità del sapere di cui parlava ieri Sini Carlo Sini ci diceva questo noi dobbiamo recuperare questa idea di unità del sapere ci sono diversi modi per farlo ci si può poi anche molto dividere sulla capacità sulle quali sono le scienze che vanno intersecate messe insieme in maniera che poi questa unità del sapere si realizzi ecco io ho cercato in tutti questi anni stiamo parlando appunto ho iniziato molto presto come vedete io sono iniziato appunto a metà degli anni 80 ho avuto la fortuna di avere però in mano uno strumento importante che mi ha promesso di capire un po' i cambiamenti culturali e anche se aveva un certo effetto tutto questo quindi introduzione nei giornali di un tipo di cultura scientifica scientifico filosofica di questo genere in un supplemento con dei lettori forti cosiddetti i lettori forti sono quei lettori che leggono tanti libri all'anno almeno uno alla settimana lettori che leggono libri molto impegnativi eccetera c'è stato un cambiamento fino a metà degli anni 90 i libri di scienza non vendevano tantissimo adesso detto proprio a livello di mercato della mercato dell'editoria finché c'è stato un momento in cui c'è stato veramente un grande dibattito e prevalevano quei libri che erano abbastanza di filosofia che erano abbastanza critici della scienza e questo si riverberava adesso qui sarebbe complicato lungo raccontare tutti gli episodi c'è un episodio divertente in realtà verso la fine degli anni 90 che ha fatto un po' esplodere questa cosa la famosa beffa Sokal perché si era venuta come dire formando l'idea in Italia che non era che la scienza fosse qualche cosa in fondo di di reinterpretabile dentro una coine filosofica che la metteva fortemente in discussione sostanzialmente nelle sue pretese di fondo di conoscere la realtà diciamo che Gianni Vattimo era il rappresentante principale di questa corrente un importantissimo peraltro che io stimo molto per molti versi però che aveva un po' questo atteggiamento nei confronti della scienza aveva inventato questa idea di una coinerme neutica che consuonava moltissimo con la filosofia con una certa filosofia che era in voga anche in altre in Francia soprattutto pensiamo a Derrida pensiamo a pensatori di questo genere e negli Stati Uniti dove aveva avuto un grandissimo successo nelle Humanities ma non nelle Humanities che in realtà nel sistema degli Stati Uniti sono separati dalle facoltà di filosofia quelle di Harvard dell'MIT eccetera che sono più strettamente legate invece alla scienza comunque nelle Humanities c'era questa idea che nel mondo ormai la cosiddetta filosofia analitica cioè quella più vicina al modo di pensare scientifico fosse del tutto del tutto così una cosa arida non particolarmente interessante e poi soprattutto ricompresa dentro questa coine generale e c'era questa distinzione comunque tra filosofi analitici da un lato e filosofi cosiddetti continentali come gli analitici comunque erano quelli più di stampo anglosassone americano continentali francesi tedeschi italiani ma al di là di tutto questo che è interessante dal punto di vista della storia del pensiero quello che è venuto fuori a un certo punto è che con questa beffa soccal a proposito di fake news oggi ci sono anche dei programmini che permettono di costruire questi paper completamente falsi pieni di stupidaggini pieni di cose che però sono delle stupidaggini che accarezzano le le credenze e le convinzioni del lettore in quel caso lì la beffa soccal aveva messo insieme tutte quelle affermazioni prese magari anche dalle scienze non so le equazioni non lineari una serie di il principio di heisenberg il teorema di godel tutta una serie di cose che secondo questo pseudo articolo che soccal alan soccal che era un fisico in realtà che è un fisico tuttora operante un allievo di Weinberg il premio nobel della fisica quindi un grandissimo fisico aveva messo insieme questa cozzaglia che accarezzava le convinzioni diciamo relativiste di questa coine ermeneutica che si era andata sviluppando e che era proprio un crogiuolo di relativismo tra l'altro non è una cosa ancora attuale perché moltissima delle molte delle cose che si insegnano nelle università americane è ancora molto legata in futuro nelle humanities è ancora molto legato a questa coine relativista in cui addirittura anche la scienza viene presentata come una fucina di una visione del relativismo dove la verità non esiste ecco perché vi ho raccontato questa cosa perché questo qui sono i prodromi ve l'ho raccontato perché è un episodio importante obiettivamente della fine degli anni 90 perché è lì che tra l'altro a me era capitato proprio di gestire un dibattito con Sokal da una parte questo fisico che ha fatto lo scherzo e Vattimo dall'altra ed è stato quello lì il momento cruciale in cui si è capito che la scienza in realtà piace interessa è culturalmente appetibile e che se si fa un dibattito filosofico in cui si mette insieme un filosofo che nega alcune caratteristiche di verità che la scienza ci divulga sia pure in maniera del tutto fallibilista eccetera eccetera come se c'è un dibattito di quel genere può avere buone chance di fare presa proprio chi sostiene le ragioni della scienza Sokal cosa aveva fatto in cosa consisteva la beffa la beffa è una cosa che poi purtroppo ce n'è ancora molte che dilagano e non nella maniera costruttiva di Sokal Sokal aveva mandato a una rivista di queste del mainstream americano degli humanities di questo relativismo andante questo testo questo paper con un titolo demenziale che adesso non mi ricordo è stato accettato dal comitato scientifico pubblicato discusso come un articolo interessantissimo dopodiché lui su un'altra rivista che si chiama Lingua Franca ha pubblicato un articolo in cui spiegava che quello era un articolo condito volutamente di sciocchezze che potevano che assecondavano le credenze di quel tipo di pubblico di questa rivista social text che era appunto impregnata di concezioni di un certo tipo insomma di questa visione relativistica in generale che riguardava le scienze sociali la società stessa diciamo ma soprattutto che si faceva bella anche di una serie di affermazioni scientifiche o prese acriticamente dalla scienza per sostenere quel tipo di cosa allora questo tra le varie cose che possiamo trarre da questa piccola storia che vi ho raccontato è che quando nel 2016 piano piano ci avviciniamo ai dati e alla cosa poi vedrete anche alla pandemia nel 2016 abbiamo avuto le prime elezioni la prima campagna elettorale di Trump vi ricordate che alla fine dell'anno c'è stato l'Oxford Dictionary che ha nominato parola dell'anno la post verità ecco questa post verità che poi è stata strettamente collegata alle fake news che in quell'anno lì hanno avuto il loro massimo la loro massima diffusione proprio durante la campagna di Trump non che fossero una novità appunto questo è per dirvi che però questa idea di post verità questa idea di un relativismo per cui poi ecco in Italia abbiamo avuto la versione dell'uno vale uno per cui le competenze non contano che se ne importa se uno ha studiato tutta la vita una certa cosa poi l'opinione del primo che passa vale tanto quanto perché viviamo in democrazia insomma questa visione così strana ecco strampalata della democrazia cioè ha un'origine abbastanza lontana avere persino delle fondazioni delle affondare persino in una moda filosofica che durava da moltissimo tempo diciamo da decenni no ecco una filosofia per tutti secondo me deve avere come primo fine un primo fine che sia davvero per tutti ma per tutti chi insomma per tutti quelli che intendono appunto vivere una vita filosofica quindi adesso scusate il bisticcio ma perché quelli che prendono la filosofia sul serio deve essere per tutti lo dicevano bene i filosofi antichi qui faccio riferimento ad un altro punto un punto di riferimento fondamentale per me per la storia della filosofia per chi ha ricostruito dei pezzi importanti di storia della filosofia che è Pierre Hadot non so se l'avete mai sentito nominare Pierre Hadot è un grandissimo storico della filosofia che ha scritto dei libri che sono molto utili proprio per capire che cos'erano i filosofi antichi e cosa possono essere i filosofi moderni e il libro che ho scritto con Antonietta Mira per me è un po' la continuazione di una riflessione che riguarda proprio delle modalità molto vicine a quelle che Pierre Hadot ci ha insegnato cioè cosa significa essere filosofi abbracciare una vita filosofica piuttosto che ecco innanzitutto abbracciare una vita filosofica la filosofia per tutti non è tanto che dobbiamo vivere con uno stile di qualunque tipo e poi ci sono degli strumenti asettici che fanno sì che noi usiamo la filosofia no secondo me ha ragione Hadot prima che la filosofia qui tra l'altro vi dico una cosa che sembrerebbe lontana dalla scienza ecco per dirvi che poi le cose sono un po' più complicate di come questo approccio di Hadot diciamo che non è per niente l'importanza della scienza che anche per gli antichi era fondamentale però ci fa vedere la filosofia sotto un aspetto un pochino più completo cioè la formazione appunto di un buon cittadino diremmo oggi però sostanzialmente qui sembrerebbe sembrerei negare l'idea della filosofia per tutti la filosofia non per tutti ma appunto per quelli che che fanno una certa scelta la filosofia è uno stile di vita diceva Platone che che appunto una vita degna di essere vissuta è una vita piena di ricerca è una vita piena di domande piena di cose che non diamo per scontate diciamo aggiungo io lui era cattivissimo in questo diceva c'è una vita che non è così non è degna di essere vissuta ma io non arriverei a questo estremo secondo me nella società c'è posto per tutti per quelli che vogliono avere una vita filosofica quelli che non vogliono averla e se sono liberi di non averla siamo una società in cui ci sono quelli che pensano che i vaccini non servono a niente e secondo me sono stupidi ma sono liberi di essere stupidi per pensare quella cosa lì scusate se dico una parola un po' eccessiva perché non sono affatto stupidi in realtà hanno delle loro ragioni però se si ponderano tutta una serie di argomenti è chiaro che è difficile però vanno tollerati per cui adesso per anticipare uno degli argomenti che forse poi affronteremo quando anche dal punto di vista matematico si va a vedere quanto quant'è la immunità di gregge determinata dall'introduzione per dire per introdurre un argomento di strettissima attualità visto che adesso ci sono tre vaccini che si contendono al campo nella per il per il covid 19 ecco chiaro che se andiamo a calcolare quello noi possiamo pensare che non è necessario che sia obbligatorio non dobbiamo far diventare il nostro sistema talmente coercitivo da rendere obbligatorie le vaccinazioni visto che probabilmente possiamo contare sul fatto che se facciamo delle buone campagne di informazione la buona parte la parte la percentuale che ci serve che sia il 60% il 70% l'80% che ci serve per ottenere quella immunità probabilmente riusciamo a raggiungerla senza negare le libertà fondamentali che a mio parere al contrario di Platone diciamo devono essere concesse anche a chi non fa una scelta particolarmente informata fa una scelta non ha gli strumenti perché è chiaro che avremo sempre delle società dove i terrapiattisti per esempio sono sempre esistiti non è che ma sono una minoranza abbastanza trascurabile ecco cioè dargli troppa importanza sarebbe anche anche sbagliato allora scusate la parentesi in realtà torniamo a quello che ci interessa di più cioè ci interessa fare una vita appunto piena di ricerca e piena di di curiosità e piena di quelli che Pierre Hadot diceva erano la caratteristica principale della filosofia antica che è quella che a me sembra interessante da riprendere oggi poi aggiornandola con tutte le scienze contemporanee la filosofia antica diceva in pratica lui diceva da Socrate in poi cosa succede si creano delle scuole le scuole antiche le scuole poi ellenistiche a parte si creano tanto le scuole di Platone e di Aristotele il liceo e l'accademia ma si creano poi le scuole degli epicurei le scuole degli scettici i cinici gli scettici ecco lui dice cos'hanno queste scuole qua sembrano diversissime nel loro insegnamento gli scettici mettono in più tutto hanno gli stoici hanno invece una idea della conoscenza completamente diversa gli epicurei vabbè secondo una vulgata sarebbero quelli che mettono il piacere davanti a tutto ma in realtà non hanno fatto se uno va a leggere bene il picuro e vedo anche quali erano le pratiche filosofiche questo cliché non attecchisce minimamente perché anzi anche quello era una forma di saggezza di capacità di ponderare di mettere in equilibrio le passioni alla ragione eccetera e però in comune diceva Hado cos'hanno il fatto appunto che intanto per entrare in queste scuole bisogna fare una scelta una scelta di vita legata a quello che viene insegnato in quella scuola e a quello che collettivamente si cerca di imparare e poi che per imparare e per consolidare le proprie conoscenze non solo le proprie conoscenze per consolidare quel modo di vita i filosofi antichi dicevano facevano dei continui esercizi spirituali e qui poi arrivo alla modalità che secondo me è importante e confacente anche poi che trova poi espressione anche nel nostro libro che è fatto di tanti capitoletti poi capiremo perché capitoletti di tanti appunto esercizi che tipo di esercizi erano quelli esercizi filosofici e filosofico matematici in questi casi quando è necessario e io ho cercato di elaborare appunto una modalità che si legasse a questo una modalità di divulgazione della filosofia che fosse anche un mettere in moto il pensiero legato a questa idea bellissima credo di Hadot che praticamente Hadot ci dice due cose fondamentali uno che quando si sceglie questa vita filosofica è come se noi mettessimo in gioco tutti noi stessi non è che semplicemente fare un pezzettino è una cosa che fa parte di chi siamo di cosa vogliamo essere del tipo di vita che vogliamo scegliere dello stile di vita appunto che vogliamo scegliere lo stile di vita filosofico dentro questa cosa qua faccio l'esempio mi soffermo soltanto sulla scuola degli stoici gli stoici dividevano il loro questo loro aspetto degli esercizi spirituali come li chiamano Adot in tre discipline etica diciamo in tre discipline di fondo insomma etica fisica e logica sono le tre cose che servono ancora adesso ci servono ancora oggi l'aspetto pratico prevaleva su tutte queste cose in che senso l'aspetto pratico in che senso era una filosofia pratica nel senso che per imparare qualunque cosa di questo genere l'idea era cosa serve per la vita cosa serve la logica nella vita comune ma anche del filosofo ma in generale perché è meglio imparare la logica se lo dico in maniera molto banale e molto semplice ma è meglio sapere la logica e la matematica è meglio che non saperla perché questa è poi la scelta fondamentale piuttosto che la fisica perché questo faceva parte però di un'idea generale in cui l'etica dominava tutto quanto cioè nel senso che prima di tutto bisognava essere delle persone rette buone ci sono degli esercizi spirituali bellissimi ma anche ripetersi come un mantra certe affermazioni questo lo ritroviamo tra l'altro in filosofie come quella buddista oggi per esempio il Dalai Lama fa una cosa del genere tra l'altro interessante che il Dalai Lama lega questo tipo di saggezza pratica legato agli esercizi spirituali ovviamente molto simile alla Do e proprio agli studi delle neuroscienze le persone più felici nel mondo che hanno il cervello conformato per essere più felici sono quelle che hanno maggiori capacità anche di meditazione per esempio di fare questi esercizi quotidiani di continua rielaborazione di principiatici innanzitutto e di continuo esercizio dell'eliminare l'autoinganno cioè ciò che ci autoinganna continuamente c'è un esercizio per esempio Marco Aurelio che era il filosofo un filosofo importantissimo della tarda antichità che era un imperatore condivide faceva degli esercizi ma facevano degli esercizi tipo il volo stellare insomma la cosa da oggi potremmo farlo in maniera molto più elaborata di allora per loro l'idea era semplicemente prova a immaginare di volare sopra le teste degli uomini sopra le città sopra la terra finire nell'universo e riguardare le cose da quel punto di vista lì allora ridimensioneresti moltissimo molte delle cose che tu vedi nella vita quotidiana la vedresti anche nella sua finitezza nella sua fragilità eccetera eccetera un po' come ci capita adesso con la pandemia che ci ha colpiti tutti ci ha fatto capire che vediamo in un mondo di fragilità e di incertezza che non ci sembrava ci sembrava di essere abbastanza immuni da tutto questo invece lo vediamo lo tocchiamo con mano quindi un esercizio diciamo alla Marco Aurelio oggi potrebbe essere proprio quello di vedere le cose sub specie coronavirus insomma vedendo dal punto di vista di una pandemia cosa che peraltro non è affatto inedito nella storia dell'umanità come sappiamo bene se guardiamo i dati poi del del vaiolo o della spagnola di cento anni fa vediamo che insomma sono state anche più devastanti di quella attuale ma torniamo ai nostri esercizi spirituali e cosa succede che noi possiamo la filosofia ci serve a fare quegli esercizi tali per cui noi consolidiamo alcune idee eliminiamo alcuni inganni che sono tipici della nostra natura il più possibile perché non è possibile eliminare tutte le nostre i nostri bias le nostre la nostra tendenza a commettere a vedere le cose in una maniera proprio ingenua e poi la scienza che cosa ha fatto poi è una cosa molto astratta che ha costruito ha costruito qualcosa di molto artificiale cioè un modo di conoscere il mondo e anche la matematica accanto a quelle conoscenze di base che dicevo prima che abbiamo tutti che condividiamo anche con gli altri animali e oggi gli scienziati cognitivi ci fanno capire che appunto tutto il resto esiste solo perché noi abbiamo un cervello fatto in un certo modo ma che ci permette di fare delle astrazioni di costruire dei modelli particolarmente astrati che di naturale non hanno assolutamente nulla quindi noi umani ci muoviamo tra questi due poli tra il fatto di accontentarci di tutto il nostro apparato cognitivo intuitivo che ci permette però di manovrare bene le cose della vita quotidiana ma meno bene le cose eccezionali o addirittura le cose che scopriamo se andiamo un po' più in là e vediamo appunto il mondo dall'alto come ci diceva di fare Marco Aurelio e tanti altri filosofi antici allora se noi prendiamo etica logica e fisica è chiaro che perché ci interessa essere ci interessano interessavano per gli stoici era importante tutto questo perché in questo loro esercizio che serviva a costruire quella che Ado chiama una sorta di cittadella interiore cioè la capacità di attraverso cosa che questo può essere non del tutto condivisibile oggi io non credo che il filosofo debba costruirsi questa specie di muraglia attraverso la quale si difende da tutto il resto però una sua utilità ce l'ha l'idea di costruire una cittadella interiore attraverso la quale domini le passioni domini i desideri che ti portano che sono fallaci domini anche la realtà la fisica ti serve a sapere come stanno le cose la logica ti serve a sapere come si ragiona bene perché è meglio essere una persona che sa come stanno le cose piuttosto che una volta c'era un comico che si chiamava Catalano che la metteva giù in questo modo molto così sempre molto banale molto semplice ma è il modo migliore per dirlo che è meglio essere persone buone imitare le persone buone come diceva Democrito piuttosto che imitare le persone cattive perché c'è tanta cattiveria che è più facile da imitare piuttosto che la bontà eccetera eccetera una serie di esercizi di questo genere che fanno del filosofo una persona un po' speciale anche oggi uno potrebbe dire adesso io mi sono divertito a fare tante ecco mi sono divertito insomma nel corso di tanti anni ho scritto vari libri di divulgazione filosofica tra cui ho scritto dei libri per bambini che uno si chiama strani tipi questi filosofi sono i presocratici l'altro si chiama Socrate quella di l'adorabile rompiscatole e l'altro un altro ancora si chiama Platone l'uomo invisibile ecco una delle caratteristiche della 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 filosofia dell'antichità è proprio quella che già allora insomma il filosofo si pone come persona un po' strana un po' diversa in Platone addirittura pensate al mito della caverna di Platone il Platone cosa ci dice sostanzialmente che ci sono questi uomini incatenati che vedono soltanto ombre per tutta la vita vedono soltanto ombre poi a un certo punto c'è questo ce n'è uno che riesce a liberarsi la faccio molto breve perché la conoscete tutti per arrivare al messaggio che a me sembra importante nel momento è una specie di favola Platone ci raccoglie degli esperimenti mentali che sono delle specie di favole però anche lì lui dice vedete anche qui la filosofia come può essere ambivalente Platone da un lato dice non fidatevi delle favole la maggior parte delle cose che vi insegnano sono basate su delle favole assurde che non vi dicono nulla però intanto ti racconta un sacco di favole tra cui che però sono delle favole filosofiche appunto che hanno una loro capacità di di dirci qualcosa di molto profondo questa è la favola filosofica per eccellenza l'esperimento mentale per eccellenza che peraltro poi se vedete verrà ripetuto in maniera scusa Armando se ti interrompo quando ritieni opportuno diciamo concludere la prima parte per fare una breve pausa decidi tu vedo che il tempo è passato abbondantemente allora guardate chiudo già chiudo questa prima parte proprio chiudendo giusto il racconto della che funziona molto bene ma proprio in due minuti cosa succede prendete Matrix allora questa idea che esiste una realtà oggi possiamo pensare alla realtà in internet anche delle fake news una realtà o anche qualcosa i complottisti pensano che ci sia una realtà ma insomma in tutte le sue varianti noi possiamo vedere che la realtà che noi vediamo non è esattamente quella molta della buona parte della tradizione filosofica ci insegna proprio questo ad andare a vedere che la realtà non sono le ombre che noi vediamo nella caverna ma sono gli uomini veri che attraverso questi uomini nella caverna non vedono mai gli oggetti veri tranne questo signore che esce al sole viene abbagliato all'inizio dal sole dalla vera conoscenza poi capisce quanto è importante la conoscenza Platone ce lo fa vedere proprio con una persona che si addentra in tutti gli ambiti del sapere conosce l'astronomia conosce la matematica conosce tutto quando è così illuminato dalle conoscenze cosa fa? cerca di tornare nella caverna e convincere gli altri che non hanno visto altro che ombre che in realtà la realtà non è quella che vedono loro e che è molto meglio andare fuori ma in realtà lui si trova in grande svantaggio perché tra l'altro è stato acceccato dal sole quindi quando ritorna dentro si orienta anche meno bene con le ombre di quanto lo facciano gli altri quindi la realtà delle ombre sembra prevalere rispetto alla realtà del filosofo quindi diciamo che nello scegliere di essere filosofi o di essere cittadini particolarmente accorti che hanno che imparano una serie di cose in maniera più accurata di quanto faccia la maggior parte delle persone c'è questo elemento anche drammatico perché poi bisogna tornare nella caverna tornare lì dentro e spiegare a questi qui che non ne vogliono sapere che le cose stanno in un altro modo ecco allora ecco questo qui a me sembra una bella introduzione anche poi dei temi che trattiamo in questo seminario che poi ci sono i temi di attualità cioè in che modo noi possiamo spiegare a delle persone e dare gli strumenti di base come appunto faceva Platone cioè non entri nella sua scuola non poteva entrare chi non conoscesse appunto la matematica per essere buoni filosofi allora come oggi bisogna conoscere la matematica non alla maniera di Platone magari che appunto era molto idealizzata ma comunque anche quella ha una grandissima importanza quella che trattiamo noi nel nostro libro la pandemia dei dati e il vaccino mentale che noi cerchiamo di costruire è basato su una matematica che in realtà quella di cui avete sentito parlare ieri e che comunque ha i suoi fondamenti nella scienza statistica e nella probabilità questo all'interno di un'idea che per me è quella di appunto spingere il più persone possibile a fare se non proprio a scegliere una vita filosofica come l'ho detto prima in maniera un po' enfatica però io ci credo parecchio ma comunque a fare questi esercizi di filosofia che sono esercizi spesso di filosofia e matematica insieme che sono quelli che da un lato sono divertenti sono veramente un divertimento per il nostro cervello ma dall'altro sono anche delle cose che ci rendono persone migliori cittadini migliori cittadini capaci di fare scelte più ponderate quindi con questo chiudo la questa prima parte spero abbiate capito che è una parte propedeutica a farvi capire cosa intendo io della filosofia un pochino ci torneremo sopra ma adesso poi nelle ore successive cerchiamo di fare degli esempi di come anche appunto si possono fare degli esercizi mettendo insieme scienze diverse la teoria delle probabilità ma anche la teoria delle decisioni razionali la teoria dei giochi una serie di dilemmi e di cose curiose che fanno sì che la nostra mente possa diciamo attrezzarsi per essere il meno ingannata possibile e per vivere nel mondo reale e non nel mondo delle ombre della caverna grazie allora ci risentiamo tra un quarto d'ora grazie di questa introduzione ad Antonietta Mira e Armando Massarenti e su questa immagine suggestiva di Platone della caverna ci ritroveremo fra un dieci minuti direi ok? ok grazie pronto? ci siamo? possiamo ripartire d'accordo allora abbiamo messo nel nostro programma nei temi della nostra mattina mattinata questa cosa che vi sembrerà così molto coincisa insomma molto 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 veloce queste due domande che forse vi avranno incuriosito una è proprio la domanda di Platone parlavamo di Platone poco fa una domanda fondamentale che tra l'altro attraversa le pagine del nostro libro questa domanda perché noi in fondo sappiamo così tante cose anche se in fondo molte di queste cose nessuno ce le ha insegnate no? questo è una delle caratteristiche cognitive del nostro del nostro cervello cioè non vale solo per gli esseri umani tra l'altro sappiamo che c'è tutta una parte innata anche negli altri animali a me è capitato vi dico una cosa buffa visto che parliamo della rete dove i gattini sono la cosa che va per la maggiore sono quelli che attirano di più l'attenzione se io faccio c'era Oliver Stone che quando ha presentato il film su Snowden si è presentato nello suo spot con un immano un gattino piccolissimo delizioso dicendo che con questo gattino noi possiamo dominare elementi di milioni di persone in tutto il mondo eccetera eccetera la rete è questa cosa qua usa i gattini mia sorella ha trovato un gattino piccolissimo abbandonato era veramente un batuffolo che non aveva quasi neanche mai visto la mamma perché aveva gli occhi chiusi e mano a mano che questo gattino ha cudito da mia sorella quindi non ha mai visto un altro gatto in vita sua in quella sua vita di pochi giorni ha cominciato a comportarsi da gatto in tutto e per tutto ha fatto dopo poche settimane faceva tutti i gesti tipici scavare senza sapere perché li faceva si lavava tutti era un gatto perfetto ma nessuno gli ha insegnato nulla ora Platone aveva intuito in maniera assolutamente perfetta che queste caratteristiche innate che negli animali sono evidentissime per il loro comportamento riguardano anche gli esseri umani addirittura lui diceva che la nostra conoscenza non è altro che reminiscenza ora oggi noi abbiamo la domanda di Platone l'ha riformulata in realtà un grandissimo scienziato di oggi che è Noam Chomsky noi nel libro facciamo anche un riferimento a un abbinamento tra questa idea di Chomsky Platone da un lato Chomsky la rialabora in un altro modo ma insomma e l'immunologia perché anche il sistema il nostro sistema immunitario è qualche cosa di simile cioè qualcosa che noi riesce a reagire in vari modi in modi spesso molto efficaci come se sapesse già come sono fatti tutti i possibili accidenti che gli possono capitare quindi sapendo come mai sa tante cose pur anche se non gli sono arrivate mai le informazioni e poi gli arriveranno poi le cose da cui difendersi tra cui appunto i virus allora la domanda di Platone è molto interessante perché ci fa capire che noi siamo molto attrezzati intellettualmente molto più di quanto crediamo molto spesso appunto quando ci spiegano una cosa ci sembra di ricordarcela come se già la sapessimo ma soprattutto ci dice Chomsky siamo determinati ad avere una facoltà fondamentale che è la facoltà linguistica cioè la competenza del linguaggio cioè mentre tante altre competenze ce le dobbiamo conquistare compresa quella matematica anche se in parte è cosa di nato anche nella parte matematica per quanto riguarda la competenza linguistica siamo un po' come il gattino di cui parlavo prima basta che ci che è vero che dobbiamo essere immersi in una qualche situazione linguistica però i bambini imparano ad una velocità stratosferica allora è strano imparano a volte c'è una fase che è descritta da Chomsky in cui i bambini imparano 600 parole al giorno allora non è solo l'esperienza che li aiuta poi bisognerebbe spiegare bene però questa parte innata si collega chiaramente anche a una parte di esperienza ma le esperienze che noi facciamo hanno degli effetti incredibili proprio perché sappiamo già moltissime cose perché appunto abbiamo già delle caratteristiche che si chiama povertà dello stimolo questo in letteratura abbiamo degli stimoli minimi nel caso del gattino per esempio se qualcuno gli spiega che deve scavare dove c'è la terra perché il gattino che lui faceva riferimento scavava ovunque che si trovasse ma se uno gli spiega a cosa serve quel gesto lì in genere è la mamma gatta che glielo fa vedere una volta basta che glielo faccia vedere una volta e lui impara questa cosa ora oggi si è scoperto che questa cosa funziona molto bene anche con gli esseri umani e anche addirittura nel campo della probabilità della scienza delle probabilità se noi facciamo vedere un esempio ben scelto di qualche cosa soprattutto che riguarda l'insegnamento morale e questo è una delle cose interessanti facciamo vedere un esempio ben scelto poi abbiamo una mente che ci permette di imparare molto velocemente una serie di cose quindi noi dobbiamo fare tesoro di queste conoscenze che noi abbiamo però c'è un'altra domanda inquietante che sempre riguarda il mondo platonico che è quella di Orwell che Chomsky queste sono tutte e due domande che aveva Chomsky che aveva fatto questa sintesi meravigliosa secondo me di quali sono le due domande più importanti in assoluto che ci dobbiamo porre e se l'era posta nel 1984 in una prefazione al libro famoso di Orwell che si intitolava appunto 1984 che è questo romanzo distopico dove si viene dove c'è il grande fratello che domina sulle nostre coscienze con certe modalità particolarmente inquietanti e lui diceva rispetto a questo che la forma di manipolazione già allora siamo nel 1984 con internet la cosa si è moltiplicata all'inverosimile come mai sappiamo così poco questa è la domanda di Orwell è proprio speculare a quella di Platone come mai sappiamo così poco anche se siamo così pieni di informazioni e qui siamo alla pandemia dei dati ma non solo alla pandemia dei dati siamo alla infodemia appunto che è qualche o meno sinonimo della nostra pandemia dei dati e siamo anche a questa divulgazione eccessiva di notizie se ne parlava ieri proprio a causa in relazione al covid-19 noi abbiamo delle televisioni che dalla mattina presto fino a notte inoltrata non parlano altro che di coronavirus ora questo parlare continuamente di questi argomenti alla fine è un sovraccarico di informazioni che fa sì che sappiamo molto meno di quanto potremmo sapere se queste informazioni fossero organizzate in un certo modo allora l'idea del nostro libro qual è? è quella che dobbiamo costruire un vaccino mentale un vaccino mentale appunto che faccia tesoro anche delle nostre capacità di cui già disponiamo capacità cognitive e soprattutto questo vaccino noi lo chiamiamo il pensiero critico che è la cosa più importante che noi possiamo imparare dalla filosofia perché la filosofia proprio questo ci ha insegnato in tutte le sue varianti a partire da Socrates e Platone a dubitare anche a dubitare degli esperti ma poi dubitando degli esperti a renderci ancora più esperti perché oggi noi sappiamo bene che sapere di non sapere il detto socratico l'abbiamo sentito ripetere dagli scienziati più seri in questi ultimi mesi è qualche cosa che non si ferma lì non è che so di non sapere quindi non imparo niente no imparo moltissimo proprio grazie al fatto che ho un atteggiamento critico rispetto a una serie di cose che si pensa di sapere e che invece allora una delle cose di cui dobbiamo essere consapevoli è proprio la nostra natura la natura umana cioè in che cosa consiste quella capacità che noi abbiamo istintiva di già sapere un sacco di cose e soprattutto ci conduce sempre nella maniera più corretta il pensiero critico serve anche a questo cioè serve a renderci conto che le nostre capacità le nostre facoltà possono anche ingannarci ora vorrei fare riferimento a una descrizione se vogliamo della natura umana che ci può essere particolarmente utile e di cui parliamo parliamo nel libro però prima di fare questo una descrizione della natura umana che vorrei guardate ieri non so quanti di voi hanno sentito il professor Sini il professor Sini ha fatto ecco se volete un esempio no di pensiero critico in azione a livello massimo troppo sofisticato dal mio punto di vista rispetto alle nel senso che è un modo proprio da filosofi professionali qual è Carlo Sini eccetera eccetera ma quindi quello che noi vogliamo proporre è un pensiero critico alla portata di tutti diciamo che non arriva a quei livelli di raffinatezza però è un bel esempio quello che avete sentito ieri proprio di pensiero critico che mette insieme una serie di conoscenze molto ben fondate per arrivare ad una conclusione pratica che era poi quella di stampo liberatorio cioè lui in fondo il discorso di Carlo Sini aveva questa nobiltà di fondo di volerci dire farci pensare ad un pensiero emancipatorio che prende che si alimenta rispetto ad una serie di conoscenze in particolare conoscenze biologiche per poter fare sì che ne facciamo tesoro e ci liberiamo da una serie di manipolazioni da una serie ecco lui diceva proprio che addirittura l'epigenetica è qualche cosa che va a influenzare che ha molto a che vedere in cui la cultura in un certo modo di organizzare la società addirittura va a influenzare i geni allora è una visione un po' estrema quella di Sini però si può fare uno stesso esercizio filosofico facendo vedere che noi teniamo conto di una serie di fatti di fatti di come è fatta la nostra natura e cerchiamo con intenzioni simili di fornire degli strumenti mentali che sono appunto per noi il pensiero critico e a mio parere devo dire che questo è un modo più abbordabile per la gente comune cioè nel senso che noi dobbiamo renderci conto di questo la caverna di Platone di cui parlavo prima facciamo finta che sia la rete che è costellata di fake news queste fake news hanno delle caratteristiche particolari perché quelli che credono perché sono perché innanzitutto le fake news funzionano meglio delle notizie normali perché ci si casca così facilmente che tipo di bugie sono le fake news e che cosa e perché appunto funzionano proprio perché hanno a che vedere con come noi siamo fatti insomma i dati che voi di cui c'è una quantità infinita che viene poi deve essere gestita attraverso la scienza dei dati hanno purtroppo questa caratteristica di poter essere messi nelle mani di persone che che le possono manipolare allora guardate partiamo da una cosa che è successa durante il covid-19 molto significativo a un certo punto se voi andate a fare una ricerca qualunque su google o qualunque altro motore di ricerca o comunque se vi orientate in vari modi ma anche su amazon anche su voi avete questa impressione molto forte alla quale spesso ci si abbandona in maniera del tutto acritica ecco la nostra mattina pensiero critico pensiero acritico ecco qui siamo nella dimensione del pensiero acritico cosa succede io faccio una ricerca su google le vengono come dire accarezzate continuamente le mie credenze precedenti cioè mi si profila attraverso tutte le scelte che io ho fatto variamente su internet e mi si danno delle risposte attraverso google per esempio che sono che mi accontentano che mi confermano nelle mie credenze di fondo quindi che fanno di me sempre di più una persona ben lontana dal filosofo di cui parlavamo prima ma di una persona molto dogmatica cioè che ha delle credenze che vengono continuamente consolidate cioè mai mi si dice una cosa che potrebbe confutare il mio sistema di conoscenze e di credenze cosa è successo durante il coronavirus durante all'inizio proprio una delle prime cose importanti che sono successe è che queste grandi società di gli vari google facebook twitter instagram eccetera si sono messe d'accordo su sollecitazione dell'oms perché ogni volta che si va a fare una ricerca soprattutto se uno appunto voi scrivete su google covid-19 coronavirus non vi viene fuori la schermata solita no con normale in ordine una serie di siti ma vi vengono fuori dei siti pre selezionati per la loro per l'accuratezza delle notizie che contengono proprio da questi siti cioè come se ci fosse un editing no come se questi motori di ricerca social network eccetera fossero ammettati a un certo punto di essere degli editori questo è uno dei dibatti degli ultimi anni sono dei meri strumenti neutri in cui ognuno poi sono poi singoli che scrivono le cose di riempire contenuti o anche loro in qualche modo sono gli editori responsabili anche delle bugie che magari vengono scritte avrete visto che Trump è stato spesso oscurato da Twitter negli ultimi tempi quando le sparava grossissime ecco allora questa è una cosa che dovrebbe farvi pensare cioè dovrebbe farvi pensare in positivo che d'accordo hanno fatto una cosa giusta questi signori no cioè hanno messo delle in condizione i cittadini di di ricevere immediatamente le notizie più consolidate le notizie più credibili nello stesso tempo però c'è una cosa di inquietante in tutto questo come uno smascheramento del fatto che normalmente invece la manipolazione è sempre diciamo operativa in qualche maniera cioè tutte le volte che noi diciamo ok che ci chiedono di accettare i cookies o altre cose di questo genere cosa stanno facendo i gestori dei dati e il modo in cui vengono poi trasmessi tra le varie società questi dati stanno di fatto usando i nostri dati c'è un bel un bel documentario fatto da Netflix Netflix che si chiama The Social Dilemma se non ricordo male che dice proprio questo cioè quando il servizio è gratis vuol dire che la merce sei tu cioè la merce siamo noi siamo noi che diciamo usa pure i miei dati come cavolo ti pare usa anche il fatto che io sono qua in questo momento in questo sito a guardare queste notizie e poi tu fallo sapere a quell'altro e quindi magari banalmente sto cercando gli stivali poi tutte le volte che faccio un'altra ricerca mi appariranno degli stivali come dire ma li hai già comprati gli stivali eccetera eccetera questo a volte è particolarmente evidente particolarmente fastidioso ma ci sono anche modi ovviamente più subliminali più sottili questo implica il fatto che potenzialmente la rete ci può ci può manipolare che i dati implicano una forte spinta manipolativa di questo tipo ma su cosa fa presa questa spinta manipolativa cioè qui siamo nella caverna di Platone non rediviva ma in tutt'altro in tutt'altro modo cioè è come se vivessimo in una società cioè a questo punto non ci rendessimo conto di che siamo di fatto continuamente manipolati Cartesio aveva fatto una riedizione della caverna di Platone che era l'idea del genio maligno che noi siamo continuamente che in realtà pensiamo di essere noi ad agire in maniera libera ma c'è un genio un maligno che ci guida continuamente poi ci sono altre versioni so Matrix se avete visto la saga di Matrix quella è un'altra versione ancora dell'esperimento mentale della caverna di Platone perché è lì e ci si fa ci si dice addirittura che la realtà che noi pensiamo essere quella vera in realtà è un grande programma allora diciamo che con le fake news con il modo di gestire dei dati di Google e di altri pensate che Google tra l'altro all'inizio non aveva affatto queste caratteristiche quando è nato aveva proprio delle caratteristiche opposte se uno andava a cercare qualche cosa in Google siccome il sistema era molto simile a quello che si usa nella scienza normalmente cioè nel senso degli indici di citazione di quanto un articolo è citato da altri quello loro lo facevano con i siti cioè più un sito è linkato da altri più probabilmente è autorevole quindi nelle prime ricerche c'era una certa oggettività quando Google non aveva ancora adottato questo sistema spudoratamente diciamo atto a blandire le nostre credenze le nostre preferenze già espresse in precedenza uno aveva una certa oggettività naturalmente dipendeva dall'argomento se l'argomento era molto soggettivo l'oggettività era minore ma se io cercavo una cosa in biologia o in qualche altra scienza ero abbastanza difeso dalle fake news anche dallo stesso meccanismo di Google questo nei primissimi anni poi invece i social network e i motori i motori di ricerca sempre di più hanno accentuato questo meccanismo della ora questi i motivi per cui funziona molto bene questo apparato diciamo manipolatorio che ci rimanda appunto al grande fratello 1984 la domanda di Chomsky perché appunto sappiamo così poco pur avendo così tante informazioni e che fa presa proprio sulla nostra natura sulla natura umana noi siamo portati nel libro per esempio facciamo spieghiamo con un esempio un esempio matematico molto semplice cos'è il confirmation bias no confirmation bias è una cosa molto precisa scoperta da uno psicologo già diversi decenni decenni fa si può fare un esperimento molto serio che tra l'altro ci spiega anche che cos'è il pensiero critico il pensiero critico alla cioè quando noi vogliamo uscire dal confirmation bias abbiamo fatto già un piccolo passo in avanti verso il pensiero critico cioè se io vi dico vi faccio vi dico una serie di vi dico una serie delle serie di numeri no vi dico due quattro sei e vi sfido a trovare qual è la regola che ha generato questa questa piccola sequenza no una cosa molto semplice allora la prima cosa che ci viene in mente è dire che si tratta di cosa dei numeri pari no quindi la regola quale sarà che sono basta saltare sempre un numero no e allora quindi la serie potrebbe andare avanti no io ho detto due quattro sei sarebbe otto dieci dodici però se io voi mi proponete questo no è vero che è la prima cosa che viene in mente immagino voi mi proponete questo e mi dite è questa la regola io vi dico no non è la regola cavoli non è la regola e allora cerco delle altre delle altre regole e quasi sempre faccio fatica a pensare che la cosa migliore è per capire qual è veramente la regola la regola è semplicemente qualunque numero purché sia ascendente quindi io dovrò fare degli esperimenti nel proporre delle cose alternative e io poi devo dire cioè voi dovreste fare delle serie alternative e capirete solo attraverso la falsificazione se qual è davvero la regola cioè ci riuscirete ad arrivare soltanto se a un certo punto farete la verifica e direte io vi dirò questa non è la regola nel momento in cui mi dite 5 3 2 no che sono dei numeri che scendono invece che salire mentre invece vi dirò sempre che la regola funziona se anche voi mi dite 345 349 e 497 ecco però in questo tra l'altro c'è anche un esempio un primo ingrediente del nostro pensiero critico che è che è meglio pensare per falsificazioni cioè andare a vedere quando la regola non funziona piuttosto che cercare continuamente di verificarla e questo è il primo ingrediente diciamo poco intuitivo del pensiero critico questa è in nuce la filosofia di Popper cioè Popper ci ha spiegato che tra l'altro vedo che è arrivato il professor Binazzi che saluto e che mi fa piacere che sia con noi a proposito di Popper lui ha curato tanti anni fa un libro meraviglioso sul Parmenide cioè sull'interpretazione di Parmenide di Popper è una cosa molto avvicente e molto interessante perché appunto come accennavo anche nell'ora precedente Popper è proprio colui che ci dà questa visione della filosofia come un pensiero critico una capacità anche di i presocratici per lui non erano altro che appunto una messa in moto di un pensiero critico legato alla costruzione delle cosmologie antiche cioè alla messa in discussione sempre il maestro che criticava cioè l'allievo che criticava il maestro eccetera eccetera il Platone cioè il Parmenide di Popper è molto interessante perché ci spiega bene il concetto di identità vabbè ma questo sarebbe un altro esercizio un altro esercizio filosofico ancora tornando al confirmation bias quello è un esempio è l'esempio più classico cioè noi siamo pieni di bias cioè noi continuamente perché siamo è così facile manipolare le nostre menti perché è così facile far passare le fake news perché questo meccanismo è micidiale cioè questo meccanismo della conferma del fatto che vale una semplice regola matematica come quella che vi ho detto non cercare una semplice regola come quella che vi ho detto prima ma è usato appunto in Google che cosa fa ci conferma in continuazione c'è tutta una letteratura che riguarda le fake news che fa vedere che la capacità di manipolare le nostre opinioni anche a livello politico questo è una cosa molto a livello commerciale vabbè quello è abbastanza ovvio ma anche a livello politico ha a che vedere con una serie di meccanismi l'odio in rete è una cosa che vedete tutti uno scrive una cosa in maniera in perfetta buona fede i primi commenti che arrivano di solito sono delle cose che mettono in discussione in maniera un po' antipatica delle cose magari del tutto secondarie che non c'entrano all'argomento c'è una certa impertinenza in rete ma soprattutto si creano delle cosiddette eco-chambers cioè si creano delle delle situazioni dove dei gruppi di persone si confermano in continuazione nelle loro credenze di fondo ora tutto questo io dicevo all'inizio che sarebbe interessante mostrare una certa visione della natura umana ecco la natura umana c'è una serie di studi di antropologi psicologi che fanno vedere perché certe fake news funzionano a partire dalla descrizione appunto della natura umana la natura umana tendenzialmente il nostro cervello non è fatto per avere come in facebook 3000 amici noi abbiamo pochi amici veri no poche per poche relazioni si è calcolato che le relazioni vere che noi abbiamo quelle più strette sono di una decina una ventina di persone ma poi che la nostra tribù tra virgolette uso non a caso questo termine è di 150 200 persone c'era un grande biologo genetista cavallisforza che faceva questo esperimento durante le sue conferenze chiedeva alle persone guardate quanti quanti numeri avete nel vostro nel vostro telefono adesso uno come me ne ha tanti perché faccio un mestiere del comunicatore ma una persona normale in genere quasi tutti confermavano di avere 150 200 numeri nella loro rubrica del telefono perché perché questo è grosso modo la dimensione di una tribù cioè noi siamo fatti per vivere in tribù cosa è successo nella storia dell'umanità che noi abbiamo nelle tribù ma in tribù appunto abbastanza piccole il nostro cervello si è formato e non ha avuto una evoluzione enorme anzi non ha avuto particolarmente nessuna evoluzione da quando nel paleolitico eravamo cacciatori raccoglitori il nostro sistema cognitivo è generato da quello quindi noi prendiamo una serie di scorciatoie dal punto di vista visivo dal punto di vista dei ragionamenti che sono erano utili in quell'ambiente lì se ne volete un esempio in pratica vedetevi il film Revenant dove è proprio una serie di reazioni umane che sono dettate da quel genere di capacità di quel genere lì ma soprattutto appunto quando noi si tratta di riunirci in società noi siamo riuniti in piccole tribù che tendenzialmente devono difendersi l'una dall'altra che creano dei legami interni molto forti e che creano una logica amico-nemico ecco adesso mutatis mutandis non è proprio esattamente così ma è molto simile a ciò che succede in rete ora le tribù possono anche essere molto più grandi un esempio carino ecco un bel esercizio filosofico di quelli che vi dicevo di quelli che sono esercizi io li chiamo esercizi spirituali ma insomma sono esercizi da fare insomma farne uno al giorno sarebbe una bella cosa per diventare tutti un po' più filosofi ma soprattutto un po' più accorti e capire che tipo di bugie sono per esempio in relazione a questo discorso che ho fatto sull'essere tribali piuttosto che non esserlo per fortuna noi comunque la nostra vita la conduciamo in una situazione non tribale normalmente è che quando in rete andiamo in rete il nostro tribalismo viene di nuovo scatenato nei modi che vi dicevo quello che ci rende non tribale lo dico subito è qualcosa di molto artificiale che è successo in una specie di miracolo della storia dell'umanità che è appunto la scienza che è appunto la capacità di argomentare il pensiero critico poi di cui stiamo parlando la capacità di uscire da questi bias da uscire da questi inganni della nostra mente che magari potevano essere utili in certe situazioni molto primitive ma che poi invece nelle società moderne non lo sono ma comunque che hanno costruito anche le istituzioni lo stato di diritto l'economia di mercato sono tutte cose molto poco naturali prima parlavamo di Marx Engels eccetera se voi prendete la descrizione che fa Marx del mercato è esattamente questo cioè la cosa che distrugge certe nostre modalità intuitive e lo dice in termini quasi allogiativi potrà sembrare che Marx parli bene del mercato ma in realtà ne parla anche cioè è chiaro che poi fa un basso avanti ne mostra anche tutti i limiti e perché dialeticamente andrebbe superato ma quando lo descrive lo descrive come qualcosa che effettivamente e anche meritoriamente distrugge certe certe nostre credenze che in effetti sono quelle che ci rendono più primitivi di quello che dovremmo essere quindi la modernità la grande crescita che noi abbiamo avuto la scienza il grande benessere che noi abbiamo oggi dipende dal fatto che ci siamo staccati da quella nostra natura la natura tribale di cui dicevo prima che però permane cioè il nostro cervello è ancora fatto così allora una delle cose che noi diciamo nel libro nella pandemia dei dati che poi appunto è un ingrediente del nostro vaccino è che ci sono cioè noi dobbiamo fare tesoro non solo delle competenze delle competenze matematiche e poi tra l'altro di questo ci parlerà di più Antonietta Mira oggi nel pomeriggio mostrandoci anche proprio degli esempi matematici la matematica delle mascherine sono anche dei esempi divertenti devo dire ma che hanno anche per esempio la matematica delle mascherine non vi anticipo di cosa si tratta ma è proprio un tipico caso in cui noi possiamo correggere i nostri errori cognitivi cioè noi abbiamo una certa intuizione immediatamente di un certo tipo vi lascio la suspense poi di scoprirlo nel pomeriggio e con una serie di passaggi scopriamo che la nostra intuizione era sbagliata perché queste intuizioni spesso sono sbagliate proprio perché noi abbiamo vi faccio l'esempio più semplice di tutti abbiamo un sistema visivo un sistema cognitivo che ci spinge a vedere le cose in un modo diverso da quello che da quello che sono se io disegno due semplici segmenti questa è una cosa che avrete visto tutti insomma la psicologia della gestalt in questo modo qua e ve li faccio vedere non so se li vedete no è un classicissimo esempio vi sembrano uno più lungo uno più corto giusto no una cosa banalissima invece sono uguali però anche se io lo sapete no perché lo sapete già prima perché conoscevate già l'esempio perché ve lo faceste eppure lo vedete sempre sbagliato perché il nostro sistema visivo ci costringe comunque a vedere le cose in modo sbagliato per fortuna invece noi il nostro vaccino fa sì che possiamo fare tesoro di un sacco di argomenti di ragionamenti compreso per esempio l'uscire dal confirmation bias perché poi dopo un po' che abbiamo capito che quando cerchiamo di scoprire come è fatta una regola con la furia di conferme con la verificabilità di Popper insomma Popper diceva la scienza non funziona verificando cercando sempre la verifica se io dico tutti i cigni sono bianchi e continuo a vedere i cigni e ogni volta che vedo un cigno bianco vedi che la teoria è vera vengo da te è vera però devo tenere conto del fatto che se scopro un cigno nero tutta la mia teoria va a farsi bene dire quindi la falsificazione è una cosa di molto utile che anzi ha un elemento informativo molto più ampio quando cerchiamo di verificare o meno una nostra ipotesi quindi noi possiamo correggere in molti casi ecco nel pensiero probabilistico noi abbiamo questa grande possibilità il pensiero probabilistico ci permette in molti casi di correggere una intuizione di fondo che attraverso un ragionamento e dopo un po' che abbiamo imparato queste cose diciamo che restano anche abbastanza fissi nella nostra mente ripeto quindi dobbiamo tener conto del fatto che abbiamo delle menti che non si sono evolute ecco la cosa che io non condivido del discorso che ha fatto ieri Sini che pure ho apprezzato da tanti punti di vista soprattutto nelle intenzioni di fondo è che noi siamo così malleabili dal punto di vista genetico dal punto di vista perché effettivamente dal punto di vista genetico i genetistici dicono che è vero che c'è l'epigenetica ci sono delle modificazioni culturali anche dell'assetto genetico ma sostanzialmente il nostro cervello non è cambiato molto negli ultimi dieci mila anni noi siamo sempre quegli uomini quindi la nostra tendenza naturale non sarebbe e lo vediamo ai mille modi proprio attraverso la rete non è quella di accettare la democrazia lo stato di diritto il libero mercato ma persino la libertà di pensiero perché siamo fortemente intolleranti in molte situazioni ma anche appunto l'idea che siamo tutti uguali l'egualitarismo che è nato dalla modernità sono tutte cose sono tutte conquiste della civiltà che la nostra natura biologica può mettere fortemente in pericolo quindi perché proprio ma proprio non perché in forza della manipolazione ma in forza di una manipolazione che tiene conto del fatto di come siamo fatti veramente cioè siamo tendenzialmente tribali il successo delle elezioni di Trump è proprio una dimostrazione di questo perché e qui arrivo all'esercizio di cui vi dicevo prima che tipi di bugie esistono facciamo questa bella distinzione tra tre tipi di bugie vabbè a parte c'è la battuta facciamo una battuta che non c'entra niente ma insomma in genere c'è questa battuta di Mark Twain che dice esistono tre tipi di bugie le bugie le bugie spudorate e le statistiche questo per dire che anche le statistiche possono mentire anche le statistiche perché molto spesso noi facciamo un uso dei numeri che è abbastanza critico quindi fa parte del nostro vaccino anche costruire mentalmente un tipo di matematica uno strumentario tale che fa sì che ci guardiamo bene anche dall'uso strumentale degli stessi numeri delle stesse statistiche Mark Twain aveva colto nel segno nel dire che le statistiche possono mentire lo stesso vale per i dati i dati possono mentire oppure però una battuta che noi usiamo nel libro è certo però è molto più facile mentire senza dati che con i dati perché i dati comunque ti costringono a un certo a certe interpretazioni ti impongono una serie di vincoli quindi molto meglio avere i dati e poi capire bene se sono stati manipolati oppure no comunque i dati sono sempre una cosa importante importante da avere torniamo alle nostre bugie appunto perché in parte c'entra questa battuta con il ragionamento che sto facendo ci sono tre tipi di bugie le bugie bianche ecco questo è un piccolo esercizio ecco un esempio di come come intendo io perché la filosofia è utile nella vita quotidiana ecco che è poi quello che io ho sempre fatto in tutti questi anni cioè cercare di usare delle cose anche abbastanza sofisticate questa in realtà è anche già di per sé abbastanza semplice per trarne degli insegnamenti che siano utili per la vita quotidiana che bugie esistono sostanzialmente tre tipi a parte le statistiche no? lasciamo le perdere per adesso ma anche questi tre c'entrano in realtà con le statistiche le bugie bianche le bugie nere e le bugie blu probabilmente le prime due le conoscete già le bugie blu sono meno conosciute sono quelle che hanno a che fare con le fake news le bugie bianche sono quelle che noi adottiamo normalmente per cortesia no? quando diciamo c'è anche un bel film che fa vedere come sarebbe un mondo se noi dicessimo sempre la verità dicessimo non so uno ti dice come sto con i capelli così eccetera eccetera e tu gli dici brutalmente fai schifo stai malissimo eccetera magari cercheremo di addolcire un po' la cosa anche se pensiamo che non stia bene insomma sono le bugie gentili sono quelle che noi diciamo per gentilezza e perché buona parte della nostra vita sociale è basata su delle piccole bugie che però ci rendono la vita più piacevole e più carina le bugie nere sono quelle peggiori allora le bugie bianche diciamo 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 sono un aspetto altruistico nel senso che sono un modo gentile non vogliamo dire agli altri delle cose che magari pensiamo cerchiamo dei modi indiretti per correggere magari quegli stessi difetti che noi vediamo ma non lo diciamo brutalmente dicendo le verità scomode a proposito di verità scomode c'è un famoso documentario sull'ambientalismo di Gore il vicepresidente degli Stati Uniti ex vicepresidente degli Stati Uniti che si chiama Un Unconvenient Truth e mi viene in mente la battuta che le persone anzi c'è una vignetta carina che gira che dice che c'è una insegna dove ci sono Un Unconvenient Truth in cinema e non c'è nessuno che va a vederlo e poi ci sono le bugie consolatorie dall'altra parte c'è un insegna che ho scritto in inglese con rispettivo di bugie consolatorie e c'è tutta una lunga fila invece di persone che va a vedere quello delle bugie consolatorie la nostra natura è quella è quella adesso ci può piacere o meno ma ci piacciono di più le bugie consolatorie che non le Unconvenient Truth comunque questa è una divagazione rispetto alle bugie bianche le bugie nere sono le peggiori di tutte perché fanno un danno sono fatte per nuocere le bugie blu sono più interessanti perché sono le bugie spudorate che un Trump o chiunque o qualunque leader qualunque capopopolo che ha poi quelle caratteristiche che sono sviluppate praticamente in rete tipo l'odio per i gruppi avversari eccetera sono delle bugie che vengono credute proprio per la loro assurdità cioè nel senso che Trump dice che non so durante la campagna di Obama diceva scusate durante la campagna contro la Clinton nel 2016 diceva che era malata di non mi ricordo più quale patologia e che la campagna stava facendo una sua controfigura diceva delle cose palesemente assurde palesemente oppure che Obama si capiva che centrava con con l'attacco delle torri gemelle del 2001 perché non era mai in quel periodo non era mai nella casa bianca un'assurdità totale perché ovviamente nel 2001 Obama non poteva non era ancora presidente insomma una serie di palle che sono state raccontate da Trump e che erano stupivano per la loro totale assurdità perché venivano credute venivano credute proprio per quegli aspetti che dicevo prima tribali e per un aspetto che nella rete è particolarmente significativo e ormai assolutamente osservato dagli studiosi per cui si creano dei gruppi delle tribù credenti in una certa cosa che amano vedere sbugiardati quelli di altri gruppi sbugiardati nel modo più e la credenza in quelle bugie nelle bugie blu è tanto più alta quanto più quelle bugie sono assurde purché siano diciamo volte a screditare l'avversario o a consolidare delle credenze di fondo che quasi sempre peraltro sono di tipo così poco piacevole di odio di risentimento quindi che fanno presa su questi su questi aspetti ecco quindi questo è un esempio di come si possono spiegare il perché esistono queste fake news ecco Armando quando pensi sia opportuno possiamo fare un'altra pausa facciamo un'altra pausa e appunto io vorrei poi continuare in quest'ultima ora e poi magari nel pomeriggio riprenderò ancora un attimo la parola insieme con Antonietta Mira che sì vorrei poi appunto spiegare quali sono se riesco insomma in un'ora spiegare un attimo come le scienze cognitive ci hanno mostrato ci sono state una serie di premi di Nobel che hanno psicologi soprattutto che hanno vinto il premio Nobel per l'economia che ci fanno capire come questi bias di alcuni dei quali abbiamo parlato ma ce ne sono anche molti altri fanno sì che noi non ragioniamo in termini razionali come vorrebbe l'uomo economicus anche quando appunto facciamo le nostre scelte in rete è che quella strategia di cui abbiamo parlato all'inizio di mettere le notizie covid-19 coronavirus eccetera fanno parte di una strategia che è proprio stata pensata dagli economisti in forza è una stradilletta strategia poi vi spiego di che cosa si tratta e che fa parte di questi lunghi ragionamenti che hanno una lunga storia e che fanno sì che il pensiero critico di cui stiamo parlando non è una cosa che ci siamo inventati io e Antonietta Mira ma ha le sue basi dentro una letteratura consolidata di cui adesso poi vi daremo anche qualche elemento se volete approfondire cioè che riguarda proprio il perché le nostre scelte non sono dettate dalla razionalità come noi vorremmo ma appunto da una serie di bias per cui poi bisogna stabilire delle strategie tra cui una è proprio l'esempio da cui siamo partiti oggi in quest'ultima ora per spingere le persone a ragionare in maniera corretta anche magari anche in quei casi in cui farebbero fatica a farlo perché la loro natura le sta portando da un'altra parte allora tra poco fra dieci minuti ci ritroviamo allora per questa ultima parte di riflessione di Armando Massarenti salutiamo Antonietta Mira che so che fra poco ha un altro impegno esatto questa ultima parte la perdo ma ci rivediamo alle tre e mezza grazie per essere stato con noi grazie a voi ci rivediamo fra dieci minuti riprendiamo con questo ultimo percorso verso un traguardo ambizioso che è proprio quello della maturazione di un pensiero critico come vaccino e do la parola a Armando Massarenti grazie grazie allora dicevo riprendiamo un po' il discorso io spero di non essere stato troppo io amo molto l'idea di che una serie di divagazioni intelligenti possano spingere a magari ad accendere delle lampadine in più rispetto che magari a un discorso troppo costruito troppo sistematico è un po' nello spirito degli esercizi della filosofia come esercizio spirituale da cui siamo partiti questa mattina cioè perché nel senso di Pierre Hadot sosteneva appunto questo che non è tanto dalla sistematicità che dal dal fatto di costruire un sistema filosofico come sarebbe accaduto soprattutto da San Tommaso in avanti diciamo la filosofia costruita come sistema che peraltro ha un sacco di pregi anche quella che noi possiamo imparare a essere filosofi anche oggi un po' come lo facevano gli antichi ma appunto seguendo l'esempio degli antichi che sì avevano tutte queste discipline a cui facevano riferimento a cui hanno apportato dei progressi notevoli pensiamo agli stoici persino alla filosofia del linguaggio degli stoici era avanzatissima la logica la fisica anche la fisica antica era interessantissima tra l'altro c'è uno storico della scienza che vi consiglio di leggere che si chiama Lucio Russo che ha mostrato come molte delle acquisizioni moderne della filosofia della scienza della scienza moderna fossero già presenti in una elaboratissima concezione degli antichi però accanto a questo negli antichi c'era proprio questo atteggiamento di fondo che io cerco di riprodurre insomma la mia maniera che è quello di fare dei tanti esercizi che magari apparentemente un po' staccati da loro in realtà poi le connessioni si trovano sempre però è bene concentrarsi appunto questo esercizio che vi ho appena proposto provate a concentrarvi appunto su questa idea delle bugie blu distinguere le bugie bianche le bugie nere le bugie blu vi renderete conto che di quanto le bugie blu siano preponderanti diciamo nel nostro mondo forse anche nella nostra vita quotidiana cioè quando voi avete l'impressione di avere di fronte a voi una persona particolarmente dogmatica probabilmente quella è una fonte di bugie blu cioè di cose che ma anche legittimamente crede in quanto assurde per esempio anche le credenze religiose sono di questo tipo perché le credenze religiose sono così strane e così anche irreali e quindi abbastanza assurde perché proprio creano quei legami forti di cui la natura umana ha fortissimo bisogno noi siamo animali sociali e un nostro modo di esprimere la socialità per riferirci ancora alla natura umana insomma al partire da come è fatta la nostra natura per poi capire come questa la consapevolezza di come è fatta questa natura possa esserci poi può crearci dei problemi nel momento che c'è qualcun altro che la conosce molto bene e la manipola come appunto accade accade con la rete allora come difendersi da tutto questo noi abbiamo pensato prima appunto di fare l'esempio di come in google uno mette di come saggiamente e assolutamente onestamente i vari social media hanno reagito a questa crisi mondiale giustamente ieri si diceva che qui siamo di fronte ad un episodio ad un episodio ad un fenomeno sociale totale totalizzante come se tutta l'umanità fosse interrelata da questa questione che ci riguarda tutti quanti molto da vicino che è appunto la pandemia quindi noi non possiamo non tenere conto del comportamento degli altri ora per quanto riguarda le fake news e la la gestione di questa immensa mole di dati fa sì che appunto noi siamo particolarmente vulnerabili dal punto di vista della manipolazione fenomeni come abbiamo detto prima il confirmation bias è imperante appunto veniamo riconfermati continuamente le nostre credenze nelle nostre appartenenze alle varie tribù si creano queste eco chambers per cui persone che credono di cui è difficilissimo penetrare cioè se io vado non so in un sito di negazionisti dell'olocal o di negazionisti anche della pandemia del coronavirus anche se ho dei fatti molto importanti è difficile è difficile penetrare queste eco chambers sono come già Popper hanno delle caratteristiche simili alle teorie che secondo Popper non sono scientifiche proprio perché sono inconfutabili cioè qualunque cosa ti dica questi cortocircuiti queste queste teorie queste sono consolidate in queste eco chambers in queste comunità molto chiuse è impossibile confutarle anche se tu hai dei fatti molto forti perché vengono ricostruiti continuamente riadattate anzi ribaltandotele contro e anzi riconfermando le loro credenze anche le più assurde poi c'è questa diffusione di fake news appunto che è sempre dettata dalla manipolazione dei dati e la polarizzazione delle opinioni perché anche questo è molto importante cioè la polarizzazione era mai stata così forte come quando appunto c'è stata questa immensa possibilità di interazioni a livello mondiale e questo genera fenomeni di odio di ansia di insicurezza ora in termini di manipolazione uno può dire ma chi sono questi manipolatori io non ho manie complottiste anzi un fa parte di queste assurdità che girano proprio la mania di vedere complotti ovunque però è abbastanza chiaro che ci sono stati degli episodi importantissimi come per esempio lo scandalo di Cambridge Analytica in cui è chiarissimo che c'era un intento manipolatorio e per venire ancora più recentemente l'Unione Europea proprio intorno a marzo aprile ha denunciato il fatto che Cina e Russia artatamente costruiscono proprio questi meccanismi spesso costruiscono dei gruppi appositi proprio per gettare scompiglio nelle opinioni nell'opinione pubblica dei paesi democratici cioè in poche parole tornando al nostro discorso tribù versus democrazia tribù verso stato di diritto verso appunto civiltà una delle strategie dei nostri nemici tra virgolette come sono in questo caso è proprio quella di minare quei valori di fondo quindi creare delle situazioni tali per cui prevale l'odio prevale la polarizzazione di opinioni che magari spesso sono anche del tutto insensate prevale l'ansia l'insicurezza e cosa c'è di meglio che una pandemia per generare appunto insicurezza che già di per sé genera un sacco di ansie e di insicurezze perché sono dettate poi dalle tragedie umane che questo quindi non stiamo parlando di qualcosa di ipotetico stiamo parlando di qualcosa di molto reale e della possibilità di provare a difendersi da tutto questo allora io credo che il vaccino mentale che noi cerchiamo di costruire nel libro la pandemia dei dati è qualcosa di molto utile di molto utile perché è molto realistico ha anche un aspetto giocoso perché vedrete anche gli esempi che farà questo pomeriggio Antonietta Mira sono degli esempi abbastanza giocosi vi faccio degli altri esempi di come un esempio carino che potreste fare si possono fare anche delle scommesse e vincerele facilmente provate a pensare c'è un famoso paradosso dei compleanni cerco sempre di fare gli esempi semplici ma perché poi vanno a mano nel libro ci sono esempi anche molto più complicati che qui sarebbe difficile raccontare faccio un esempio semplice di come possiamo modificare una nostra opinione noi lo mettiamo in relazione a GAF che ha fatto a un certo punto Gallera quando ha detto che se R con T sapete tutti che cos'è anche questa è una cosa tra l'altro non facilissima da manipolare l'abbiamo visto ieri perché quando noi siamo di fronte a dei numeri che crescono esponenzialmente il nostro cervello non li domina così facilmente ma comunque insomma non è così questi sono gli errori e le incomprensioni che si possono correggere al contrario di quelle visive che vi ho fatto vedere quindi i cervelli ben educati possono gestire questo genere di cose allora rispetto alla GAF per esempio di Gallera noi abbiamo proposto questo è simile a quella di Gallera era semplicemente se RT scende a 0 su 51 secondo lui per essere contagiati bisognava incontrare almeno due persone che avessero già il coronavirus c'è un ragionamento suo una sua intuizione è interessante vedere come questa cosa si collega simile come ragionamento ad un'intuizione erronea che noi abbiamo su la probabilità che in un certo gruppo di persone ci siano due persone che compiono gli anni lo stesso giorno voi penserete che è una probabilità abbastanza bassa immagino l'intuizione di fondo è che sia abbastanza bassa invece se voi fate i conti vi mettete un attimo con calma anzi se guardate la voce Wikipedia è fatta molto bene spiega benissimo fa vedere in due minuti che non è così la probabilità che già in un gruppo di 23 persone la probabilità è il 51% che ce ne siano due che compiono gli anni lo stesso giorno se poi saliamo a 30 persone diciamo una classe media di media di media dimensione arriviamo al 70% di possibilità che ci siano due persone con lo stesso compleanno e via e via dicendo vedete sale questa curva sale in maniera velocissima ecco questo è un esempio di come in pochi ragionamenti si possono correggere delle nostre delle nostre intuizioni e questo però è un modo abbastanza razionale ci sono poi qui voglio fare riferimento velocemente io non so adesso se gli studenti le persone che mi stanno ascoltando sono più dei matematici degli economisti dei sociologi non ho idea bene dell'audience ma io cerco di fare un discorso che va bene un po' per tutti cioè sono degli strumenti utili a tutti ora voi avrete notato se seguite un pochino cosa che andrebbe fatta con maggiore attenzione anche per tutte le scienze diciamo perché se noi guardiamo anche la biologia le cose i Nobel sono scelti con un certo criterio i Nobel dell'economia hanno una caratteristica abbastanza interessante divertente e anche abbastanza strana che da un po' di tempo a questa parte diciamo da una ventina di anni a questa parte ma ce n'è qualcuno anche precedente ogni tanto vengono dati dei premi nobili degli psicologi diciamo l'economia perché perché esiste una branca molto consolidata di psicologi che si applicano per far capire allora diciamo così il nostro vaccino mentale può essere costruito più o meno in questi modi da un lato far vedere quanto è importante capire le cose in termini di utilità quindi la teoria delle utilità attesa è qualcosa che è una grande conquista dal punto di vista della definizione delle nostre preferenze è una lunga storia che adesso sarebbe lunga da raccontare che parte anche lì da un esempio molto divertente un paradosso che è il paradosso del casino di San Pietroburgo anche lì tra l'altro si fa vedere una crescita esponenziale ci sono delle vincite infinite praticamente in questo paradosso che fanno sì che insomma il paradosso si risolva con la prima definizione di che cos'è l'utilità cioè del perché è diverso ragionare in termini monetari piuttosto in termini di utilità perché esempio classico utilità marginale di crescenza si dice che un euro di uno che guadagna 100.000 euro all'anno vale di meno di uno che ne guadagna 10.000 cioè un'utilità minore nel senso che dipende anche da quanto denaro uno già possiede insomma c'è tutta una grossa storia intellettuale molto bella molto interessante che noi descriviamo in maniera anche abbastanza semplice che porta poi dopo la risoluzione di una serie di paradossi alla definizione di Von Neumann e Morgenstern nel 45 della massimizzazione dell'utilità attesa in poche parole di quello che dovrebbe essere il comportamento razionale dell'uomo che sarebbe quello che appunto massimizza sempre le proprie utilità con coerenza mettendo insieme le varie preferenze ora Kahneman e Tueschi negli anni poi il vincitore del Nobel alzava solo Kahneman nel 2002 perché nel frattempo era purtroppo Tueschi era morto molto giovane comunque da psicologi cosa fanno prendono tutta una serie di decisioni che i consumatori dovrebbero adottare seguendo il principio della razionalità economica e fanno vedere che nella realtà ci si discosta da questi comportamenti razionali in maniera costante e sistematica cioè individuano una serie di errori di ragionamento alcuni errori di ragionamento riguardano proprio il ragionamento probabilistico un tipico esempio è la fallacia della congiunzione cioè se io vi racconto una storiella in cui ci sono diversi elementi non so è un'artizia che fa e poi si racconta della Cassiera Pia Cassiera Pia che aveva avuto una storia che è stata una rivoluzionaria eccetera eccetera si chiede la probabilità che lavori in banca e nello stesso tempo faccia anche un'altra cosa che ha a che fare con la sua storia precedente in genere se la congiunzione che noi proponiamo questo vale anche per le malattie i medici cadono spesso in questa pallaccia qua perché mettono insieme due malattie che sembra che debbano essere collegate tra di loro ma è chiaro che la probabilità di due cose congiunte tra di loro sarà sempre minore della probabilità di ogni singolo elemento della narrazione che sia Cassiera separato dall'essere anche una che comunque che ne so si impegna nel sociale eccetera eccetera se le due cose le metto insieme anche se sembrano molto più plausibili dal punto di vista della narrazione è chiaro che saranno meno probabili nel momento in cui sono insieme questa è un tipico tipica fallacia scoperta della sistematica che commettono tantissimo anche che valli professionisti in campo medico per esempio è uno dei tipici errori pensate questi tipi di fallacia scoperti da Tueschi e Kahneman spiegano un buon 30-40% delle tipologie di errore medico cioè di come i medici spesso ragionano in maniera fallace commettendo l'errore medico dipende più da una mancanza di accuratezza in questo tipo di ragionamenti che non dalle cure sbagliate o altri tipi di errori ecco quindi Kahneman e Tueschi fanno questo iniziano questa storia se io per esempio per venire in ambito più vicino a noi al covid-19 allora immunity per esempio la tracciabilità è una cosa che noi abbiamo visto che è fallita miseramente purtroppo perché quella era una cosa che poteva essere molto utile però supponiamoci questo problema noi abbiamo una app che ci permette di di tracciare come hanno fatto in Corea del Sud sapete che in Corea del Sud è uno dei motivi per cui sono riusciti a gestire così bene la pandemia è che c'è stata una tracciabilità ora tutto questo ha a che fare con una serie di ragionamenti sulla privacy anche qui sulla manipolazione fidarsi non fidarsi dello Stato eccetera in Corea del Sud c'era una forte fiducia nelle istituzioni pubbliche e anche questo è stato un elemento che lo ha fatto funzionare ma questa questione della diffusione o meno è chiaro che immunity avrebbe funzionato se molta gente si fosse avesse scaricato l'avessi usata eccetera eccetera la cosa invece non ha funzionato perché pochissima gente lo ha fatto anzi si è generato una certa diffidenza in tutto questo allora uno degli esiti di questa discussione in ambito economico sulle scelte razionali ha portato a pensare che poiché molto spesso la decisione dipende dal framing dalla cornice che noi diamo a una certa decisione e in genere noi appunto siamo molto influenzati dal modo in cui ci si dice si è visto per esempio nell'ambito della della la parità diciamo di risultato finale o per la parità di se noi per esempio vogliamo per analogia con quello per cui arrivare alla questione dell'immunity vogliamo fare in modo che le persone che pure sono propense alla donazione di organi donino effettivamente degli organi che si dichiarino favorenti se noi chiediamo alle persone di aderire ad una campagna di donazione di organi avremo un risultato molto molto minore cioè la parità di libertà di fondo è della scelta di fondo uno è libero di donare e non di donare c'è una maggiore propensione delle persone in genere a donare però quando si fanno le campagne non arrivano abbastanza mai persone di quante sono quelle che servono se noi come in alcuni paesi è stato fatto rovesciamo la situazione cioè il framing è opposto noi diciamo tutte le persone che non ci dicono che non vogliono le persone sono liberi di non donare i loro i loro reni per il long room rena nel caso ma per dirci che non non sono d'accordo lo devono dichiarare cioè quindi di default c'è l'idea che tutti lo devono fare eccetera eccetera ecco con immunity si è creata una situazione di questo genere cioè non si è tenuto conto di una acquisizione importante che appunto la teoria delle scelte razionali e la psicologia applicata a questo ci aveva fatto capire che è molto difficile che tutti aderiscano troveranno delle obiezioni delle cose poi soprattutto è un atto volontario uno deve andare a mettersi lì deve scaricarla se avesse supponiamo lo Stato italiano avesse detto tutti devono scaricare la cioè c'è un obbligo diciamo a scaricare la cosa salvo poi che quelli che non la vogliono la possono disinstallare probabilmente avranno avuto un successo maggiore a parità di libertà delle persone di comunque di rifiutare quel tipo di app invece la libertà in questo caso avendo costruito un framing opposto cioè del tipo ognuno è libero di farlo incentivando le persone a scaricarlo che può essere anche una scelta razionale in certi casi forse nel caso dei vaccini la scelta più razionale è proprio questa cioè non creare l'obbligatorietà potrebbe anche essere questa cioè creare un framing di obbligatorietà salvo che uno deve dichiarare che non lo vuole oppure si può anche fare come molto spesso viene fatto pensando a guardare la libertà delle persone si fanno delle buone campagne informative e si lasciano liberi le persone di vaccinarsi o non vaccinarsi facendo capire però che se un certo numero di persone non si vaccina l'immunità di gage non si raggiunge e che comunque è più razionale vaccinarsi quando è chiaro che i vaccini non si prestano a quel tipo di critiche che purtroppo le fake news hanno hanno divulgato negli ultimi anni tra l'altro molto prima del 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 quindi ecco questo è un esempio di come si può applicare un ragionamento da psicologi nell'ambito delle scelte razionali dove conta infatti loro hanno costruito una teoria che si chiama la prospect theory cioè è una sorta di teoria dell'architettura delle scelte dove le scelte vanno per fare in modo che le persone scelgano in una maniera più razionale e meno costruire un framing tale razionale e soprattutto che vada nella direzione del loro del loro benessere faccio un esempio più semplice allora ecco questa è la teoria della prospect theory tiene conto soprattutto del framing cioè del fatto che costruiamo le cose a seconda di come la mettiamo otteniamo una certa propensione ad una certa decisione o anche una certa propensione al rischio piuttosto che una contraria accanto a questa teoria un altro premio Nobel nel 2017 Richard Taylor ha costruito insieme ad un giurista un Sussain si chiama ricordo bene come si pronunci una teoria della cosiddetta spinta gentile no cos'è la spinta gentile beh la spinta gentile è esattamente l'esempio che vi ho fatto cioè nel momento in cui Google vuole spingere il lettore ad andare su quelle che considera delle informazioni più accurate cosa fa gliele mette all'inizio gli dice guarda tu stai cercando come ecco guarda vai qui non andare tu a cercare le robe che ti soddisfano di più che basate sui tuoi pregiudizi sui tuoi bias su quelle cose che pensavi prima ti ha raccontato tua nonna eccetera no vai subito sulla cosa autorevole questa è una strategia di Nudge ora la cosa interessante su cui riflettiamo io e Antonietta Mira nel libro fino a che punto il Nudge ci crea il vaccino giusto per andare nella direzione di non essere più troppo vulnerabili rispetto alle fake news eccetera e la nostra idea è che il Nudge è un'ottima cosa può servire in tante situazioni vi faccio degli altri esempi di vita quotidiana divertenti di Nudge perché si stanno a che fare per esempio con un altro premio Nobel che l'ha vinto però per la teoria dei giochi ecco un'altra parte riguarda proprio la teoria dei giochi la teoria dei giochi sapete è stata fondata tra l'altro con gli stessi von Neumann e Mogensen proprio nello stesso libro in cui definiscono le decisioni razionali basate sull'utilità ed è la teoria delle interazioni strategiche quindi è una teoria che vi consiglio di studiare di studiarne i paradossi adesso non so se avremo tempo oggi di mostrare alcuni paradossi il paradossi più famoso è il paradossi del dilemma del prigioniero la teoria dei giochi è famosa perché Nash è stato diventato famoso per un film Beautiful Mind eccetera eccetera comunque la cosa interessante della teoria dei giochi è che parla delle interazioni strategiche cioè di come i comportamenti individuali tengono conto dei comportamenti delle altre persone che interagiscono quindi è molto diverso dalla razionalità economica comunque uno dei vincitori questo Schelling tornando alla questione del nudge ha scoperto un fenomeno carino che è quello del sempre relativo alla psicologia in realtà che è quello dell'effetto focalizzazione per esempio si chiede come mai così tanti casi anche qui c'è la statistica che lo guida insomma così tanti casi quando un giocatore durante una partita arriva da solo davanti al portiere invece di tirare in porta tira contro il portiere no pensateci quante volte succede ma che cosa è successo perché qui davvero è la nostra mente i nostri bias il nostro il modo di focalizzare di creare di focalizzare l'attenzione perché l'unico elemento che ha visivo che ha in quel momento in cui è traferatamente magari è arrivato lì è il portiere la cosa più evidente è il portiere quindi tira contro il portiere per analogia se voi andate questo è un esempio di Nudge molto vicino alla vita quotidiana per farvi capire come tutte queste cose poi hanno a che fare con con quello che succede alla vita di tutti i giorni allora c'è un problema annoso perché i bagni dei maschi sono sempre più sporchi dei bagni delle femmine no? chiaro ponetevi questo problema e se andate ad Amsterdam nell'aeroporto di Amsterdam vedete nei bagni dei maschi ci sono queste specie di Vespasiani e hanno disegnata una mosca dall'interno del vaso in un punto c'è disegnata una mosca questo fa sì che l'effetto focalizzazione di cui parlavamo prima funzioni perfettamente e che quindi i bagni di Amsterdam siano molto più puliti della media dei bagni dei maschili di tutto il mondo perché prendere la mira è una cosa che viene istintivo anche in quel caso lì questo per esempio è divertente però che serve a spiegare cos'è il nage significa che noi facciamo una cosa siamo indotti a fare una cosa che qualunque altro sforzo razionale di convinzione di convincimento di propaganda non avrebbe portato a un risultato così efficace bisogna tutte quelle robe un po' moralistiche dovete lasciate il bagno come l'avete trovato eccetera eccetera a parte sono anche abbastanza non sono efficaci neanche dal punto di vista logico ma però sono anche inefficaci proprio dal punto di vista psicologico dal punto di vista dell'azione che poi ne segue se voi guardate forse adesso sono diventi invecchiati un po' ma uno dei cartoni animati più divertenti della storia della televisione sono i Simpson che sono dei cartoni animati che spesso inglobano moltissime conoscenze e i nudge sono espressi anche lì perché per esempio quando Homer Simpson va dal suo va dal da questo indiano che ha questo negozio un po' strano così eccetera eccetera le ciambelle tanto amate da Homer sono lontane dal banco e sul banco si ritrova delle verdure delle cose che lui trova orrende perché chiaramente dal punto di vista dei suoi gusti è molto meglio qualcosa di insano di orribile mangiato in sopra però c'è questa idea del nudge che il consumatore per Homer non funziona tanto però in generale e questo vale anche in molte situazioni vere insomma che troviamo una cosa se noi mettiamo le cose più sane a portata di mano e teniamo lontane quelle dannose questo effettivamente influisce molto sul comportamento delle persone però vedete che come noi possiamo essere manipolati prima lo dicevamo in negativo ma possiamo essere anche manipolati in positivo quindi la teoria dei nudge è questo cioè è una immensa costruzione che fa sì che delle persone molto ben intenzionate cioè dei riformatori cioè questi economisti psicologi che lo hanno studiato in particolare questo Richard Taylor costruiscono questa architettura da un lato l'architettura delle scelte con dei framing particolarmente efficaci per spingerci nella direzione che peraltro noi stessi seguiremmo se avessimo più tempo per pensarci infatti la teoria di Kahneman è basata sui pensieri lenti e i pensieri veloci i pensieri veloci sono quelli purtroppo che dominano le nostre scelte se avessimo più tempo in molte situazioni faremmo una cosa diversa da quella che ci viene istintiva ma il nudge serve a spingerci verso subito la soluzione che è più razionale senza che noi ce la rendiamo e allora è qui il problema il problema e la critica più giusta che si può fare al nudge è che spegne il pensiero critico cioè noi non arriviamo alla scelta più giusta grazie a un ragionamento che noi facciamo ma ma che quindi con quello che noi cerchiamo che noi vorremmo invece che si formasse maggiormente nei cittadini ma attraverso un automatismo è come se qualcuno sopra di noi sopra le nostre teste il nostro bene quindi c'è una forma di paternalismo loro lo chiamano paternalismo soft è vero che è soft perché teoricamente io comunque posso scegliere non è che mi vengo costretto a fare una cosa però vengo spinto verso quella cosa ma questo è bene è bene che io venga spinto verso la soluzione più razionale e più giusta che io venga spinto verso le notizie vere piuttosto che verso le notizie false questo è giustissimo ma quello che il prezzo che noi paghiamo è che invece appunto il pensiero critico viene in qualche modo spento tra l'altro vi voglio fare un esempio carino che viene anche questo della teoria dei giochi su come funziona il pensiero lento il pensiero veloce che li chiama il sistema 1 il sistema 2 anzi prima viene il pensiero veloce poi il pensiero lento è un'altra è un esperimento che ci fa capire anche un altro aspetto positivo diciamo della nostra natura prima come ve l'avevo descritta poteva anche sembrare una cosa un po' a tinte fosche comunque quel tribalismo che ci porta verso la negazione della modernità verso la negazione di tutte le cose razionali in realtà di positivo c'è nei nostri istinti per esempio un certo istinto all'istinto morale verso l'equità allora vi faccio un esempio che serve proprio a indicare cosa significa cosa succede nel nostro cervello perché è stato fatto poi oggetto questa teoria dei pensieri lenti dei pensieri logici anche di vari esperimenti di tipo di neuroscienze le neuroscienze si sono innestate sulle grandi acquisizioni delle scienze cognitive di cui in parte vi ho dato appunto questi semplici esempi per capire di che si tratta cosa servono e vi faccio l'esempio del cosiddetto ultimatum game è un gioco che consiste semplicemente in due mosse supponiamo che io dica al professor Cassani di dividere 100 euro cioè lui io do a lui io rimango nel gioco ma il gioco è che do al professor Cassani 100 euro e lui li deve dividere con uno di voi la regola è molto semplice lui può dividerlo come gli pare però la contromossa di chi riceve la proposta di divisione di questi 100 euro è che può rifiutare la proposta a quel punto se rifiuta cioè se accetta la divisione avviene se invece la divisione viene rifiutata i 100 euro tornano a me no professor Cassani fa un ragionamento di massimizzazione dell'utilità attesa come quella che abbiamo detto prima ipotizzata da Morgan dalla teoria classica che dice io mi tengo 99 euro e vi do un euro quello che deve accettare questo euro in genere che cosa fa la teoria dell'utilità attesa direbbe che dovrebbe accettare è sempre meglio un euro che zero giusto però si è visto che nel comportamento delle persone un certo grado di iniquità di questa divisione provoca una sorta di istinto morale e di senso di ingiustizia che fa rifiutare la divisione mandando a monte e mandando proprio in vacca tutta la divisione cioè se tu diciamo il 30% se Cassani mi propone se io mi tengo al 70% cosa lui non farà mai ovviamente sapete bene che lui dirà diciamo il 50% per carità ma supponiamo che forzasse un po' la mano e diciamo che fino al 70% 75% gli va bene se poi invece non gli va per niente bene perché dall'altra parte c'è un rifiuto e quindi non si becca assolutamente nulla e i 100 euro tornano a me ma questa è una cosa molto significativa perché si è visto che intanto è positivo che per quanto sia irrazionale però è una forma di irrazionalità che ci piace abbastanza che spiega anche perché quando noi dobbiamo fare delle scelte che non hanno il carattere della razionalità economica ma sono scelte che riguardano il bene comune in genere siamo contenti una volta il povero Padoa Schioppa loro amministro aveva detto che pagare le tasse ci rende felici si ci basava ed è stato martoriato per questo perché sappiamo che in Italia questo è un tema scottante però in parte c'era una certa verità perché si è visto in certi studi neuroscientifici che nel momento in cui si compie un atto di tipo equo o di tipo che va verso il bene comune nel nostro cervello si attivano tipicamente dei meccanismi che indicano una felicità Bene Armando forse è il momento di arriviamo alla conclusione e forse il collega coorganizzatore il professor Fabio Minazzi può fare offrire uno spunto di riflessione conclusivo a questa mattinata Volentieri chiudo soltanto con questo ragionamento perché si è visto quanto funziona questo meccanismo un po' paradossalmente questo meccanismo dei pensieri veloci e dei pensieri lenti perché si è visto cosa succede nel cervello quando ci sono in quei pochi casi in cui si accettano delle divisioni inique ci sono dei casi in cui uno dice va bene d'accordo mi dai solo due euro ma io accetto lo stesso e questo però si vede proprio che ci sono le due fasi cioè c'è prima una fase intuitiva contraria nel cervello che attiva la parte emotiva del cervello le nostre decisioni lente e questo deve illuminarvi anche rispetto al tuo ragionamento che abbiamo fatto prima sui istinti più tribali eccetera eccetera fanno parte della parte più emotiva del nostro cervello poi scatta la parte prefrontale sulla parte razionale e dice va bene ho accetto i due euro perché scatta in questo caso una razionalità che è quella di tipo economico che fa sì che si scelga la parte quindi è un po' paradossale come esempio ma illustra molto bene che effettivamente questo meccanismo è proprio operativo nel nostro cervello noi molto spesso facciamo una scelta impulsiva che sarebbe molto diversa se poi invece mettessimo in moto il meccanismo del pensiero una certa serie di ragionamenti che naturalmente devono essere guidati da tante riflessioni che poi sono quelle che io e Antonio Entamira facciamo nel libro cercando di mostrare un po' tutti gli strumenti che servono a questo allora io molto volentieri ringrazio grazie molte per queste numerose ricche riflessioni che hai offerto in questo programma di questa mattina e vorrei chiedere al coorganizzatore di questo evento l'amico filosofo Fabio Minazzi un pensiero conclusivo ecco no un pensiero conclusivo ribadisce quello che è stato il film rouge di tutto l'intervento di Massarenti cioè anzi mi piace molto questa idea di un pensiero critico lui ha detto presentato per la quotidianità quando appunto ha detto non un pensiero critico come quello di Sini che ieri sera ieri è stato veramente importante ha suscitato grande emozione in tutti noi che l'abbiamo ascoltato ma un pensiero critico applicato alla quotidianità è un tema decisivo è un tema decisivo e io torno a osservare quello che dicevo ieri nel senso che purtroppo nel corso degli ultimi 10, 20, 30 anni nelle scuole quindi nel processo formativo dall'elementare fino all'università inclusa questo pensiero critico quotidiano di cui abbiamo bisogno come il pane è invece sistematicamente affossato perché nelle scuole ormai è passato un modello di tipo istruzionale vale a dire non c'è un'attenzione sul far riflettere sul pensiero scientifico sul pensiero filosofico il pensiero biologico il pensiero letterario ma perché è anche molto più semplice per l'insegnante che vi è meno in questo luogo sul ruolo di educatore presentare una serie di istruzioni che diventano poi un percorso obbligato se voi andate a prendere i libri di testo fatti sulla base di quelli lo dirò la demostenica esecrandi e spottacchievoli moduli voi vedete che lì c'è l'uccisione del pensiero critico anzi c'è l'addestramento come un pollaio per poter fare una serie di operazioni ma la matematica qui parliamo di matematica come viene insegnata la matematica si mostra un'equazione si dà la formula l'algoritmo di risoluzione e poi lo studente viene addestrato a risolvere questi problemi e questo continua fino all'università ricordo un ricordo che mi porta a fine degli anni 70 quando ho dato gli esami di analisi 1 e analisi 2 ho dovuto chiudermi in casa per una serie notevole di mesi e fare esercizi su esercizi perché questo mi veniva richiesto questo modo di insegnare pialla completamente il pensiero pensiero non esiste più e allora questo esercizio di tornare alla pratica quotidiana di un pensiero critico mi sembra decisiva non solo per il singolo individuo ma anche per il nostro paese perché questo lo dice la storia i paesi che hanno maggiore pensiero critico sono anche i paesi più ricchi dal punto di vista della vita oltre che dell'economia quindi io su questo ringrazio veramente Massarenti e leggerò con molto interesse il suo libro proprio perché mi sento schierato nella stessa battaglia anche per la scuola a cui vengo quella di Gemola e la scuola di Milano insomma grazie 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 riguardo a quello che ha appena detto ieri Berestichi nel suo intervento si è riferito a giganti del passato come matematici educati questo è proprio una parola incredibilmente azzeccata che sintetizza proprio questo pensiero grazie Armando do l'appuntamento a tutti oggi pomeriggio alle 15.30 per la seconda parte della giornata di oggi conclusiva di questo evento dove Antonietta Mira dopo un focus più filosofico con qualche detour matematico e ho apprezzato molto questo sforzo di Armando si concentrerà più su un focus probabilistico statistico diciamo ecco più matematico grazie e a oggi pomeriggio non ti salutiamo perché ci sarai anche tu per un saluto io ci sarò e qualcosa dirò anche oggi pomeriggio benissimo grazie a tutti a presto a oggi pomeriggio grazie 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 a tutti